FEMPLAB FEMPLAB è un evento internazionale organizzato in Italia da British Council S4 che coinvolge 30 paesi del mondo, pensate in Italia 15 città, tra cui Trieste. I primi due classificati di ogni città hanno accesso alla finale nazionale del concorso che quest'anno per la prima volta si svolgerà a Trieste. Trieste quest'anno è città europea della scienza 2020, ci saranno una serie di appuntamenti interessantissimi, poi ve ne parlerò e anche FEMPLAB ne farà parte. Il vincitore e la vincitrice poi parteciperà alla finale internazionale che si terrà a giugno durante il CETNAM Science Festival. Questa è un'iniziativa organizzata da Science Center Immaginario Scientifico, dall'Università di Trieste, dall'Università di Udine, dall'Assista e dal Comune di Trieste, nell'ambito del protocollo d'intesa Trieste, città della conoscenza, in collaborazione con Trieste Science Plus Fiction Festival e Science Industries. Avremo una mattinata molto ricca con un'intervista a un importante scienziato, un importantissimo scienziato, un video e ovviamente la gara. Ma questo è un talent show e come tale abbiamo una giuria, una giuria che abbiamo selezionato come particolarmente cattiva e ora ve la presento, a cominciare dal teccano della giuria. Quante edizioni hai fatto, Nicola? Quasi tutte. Allora, da quasi tutte, conservatore del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste, Nicola Bressi. Applauso! Professoressa di Biochimica all'Università di Udine, la professoressa Marina Comelli. Prego! E poi, attrice e autrice, Diana Omel. Applauso! L'anno scorso sera in giuria si è affezionato e tornato professore di Fisica all'Università di Trieste e incaricato di ricerca dell'INFL, sezione di Trieste e allo sacco di titoli, Francesco Longo. Applauso! E infine, da un'intera comunicazione dell'Assissa, nonché mia collega all'ufficio, Chiara Saviane. Applauso! Bene, una oltre alla giuria abbiamo anche chi ci giudica e ci commenta là in alto. FEMGLAB è infatti anche un'occasione per coinvolgere gli studenti delle scuole superiori nel modo della ricerca e della comunicazione scientifica, grazie a un progetto che si chiama FEMGLAB-EIU. Questo progetto è realizzato in collaborazione quest'anno con il liceo scientifico Galilei di Trieste ed è stato possibile grazie alla collaborazione con l'associazione Science Industries. Sono lei in alto, io non li vedo, ma ci sono. Fatemi sentire. Ciao, ciao a tutti! Ci siete! Siamo qui, stiamo finendo gli ultimi dettagli tecnici per mandare lo streaming, siamo pronti, siamo operativi. Chi siete voi due? Intanto, presentatevi. Siamo qui io, sono Eric, c'è qui con me Daniele, voi volete salutare, volete presentarvi? Elisa, io sono Elena. E stiamo sistemando gli ultimi dettagli e tra l'altro ci siamo, partiamo anche noi. Bene, buon lavoro allora, buon lavoro. Altrettanto. Grazie. E poi ci siete voi, mi dicono che siete 230 dalle scuole superiori della regione, ora io vi presenterò e ogni scuola che presenterò deve sborgare un grandissimo applauso, ok? Tutti devono applaudire. Mi raccomando, cominciamo dalla platea, l'Istituto Teclico dell'Eda di Trieste, applauso! Un po' moscio, lo rifacciamo. Istituto Teclico dell'Eda di Trieste, applauso! Somma, devono far dire anche gli altri, eh, perché il Liceo Scientifico Ducca degli Abruzzi di Dorizia, applauso! E lei da questi mi danno un po' di punti. Liceo Scientifico Galilei di Trieste, applauso! Voi però siete di più, eh, comunque. Liceo Scientifico Buonarroti di Non Falcone, applauso! Bravi! E infine l'Istituto Teclico Galvani di Trieste. Applauso! Allora, facciamo anche un applauso, non la facciamo mai, ma quest'anno lo facciamo ai professori che vi hanno portato qui stamattina e che facciamo alzare in piedi. Bravi, bravi i professori! Allora, anche voi, i pubblici... Voterete il vostro Beniamino o Beniamina perché ci sarà anche il voto del pubblico per cui voterete più tardi con il voto elettronico. Quindi, ricordate nome e numero del concorrente. Spero di ricordarli anche io ogni volta di citare il numero. Ora vedremo esibirsi tutti i concorrenti, tre minuti ciascuno. Silenzio. Dicevo, tre minuti ciascuno. Da questi poi la giuria selezionerà un gruppo ristretto che passerà alla seconda fase della selezione. Avremo 17 concorrenti, mi conformate? Ok. In questa seconda fase i concorrenti presenteranno un nuovo intervento originale di tre minuti. I tre minuti sono stretti perché alla fine dei tre minuti sentirete che partirà un gong. La selezione di Trieste brilla per internazionalità e eterogenità di provenienza. I nostri concorrenti vengono dall'Università di Trieste, dall'Università di Udine, OGS, CIS, ICGB, CTP, Elettra, Università di Padova e Electrolux. Applauso per tutti questi concorrenti che stanno per salire sul palco. E adesso basta con le chiacchiere, abbiamo parlato abbastanza e comincia la gara. Comincia la gara col primo concorrente, il primo deve rompere il ghiaccio, quindi siate particolarmente intensi e forti con l'applauso. ve lo presento. La sua presentazione si intitola OGM, una questione vecchia di millenni. Signore e signori, Andrea Belli. OGM, brutta roba, eh? Da noi il marchio no OGM è sinonimo di qualità, di genuinità. Ma che cosa sono questi OGM? Partiamo dal nome. Organismo geneticamente modificato. Ok, quindi sono degli organismi geneticamente modificati dall'uomo. Giusto? Più o meno. Se fosse così, praticamente tutti gli animali e le piante addomesticati sarebbero OGM. Mesopotamia. Il contaglino Ninurta sta zappando la propria terra. Stiamo 5.000 anni fa circa. In fondo al suo campo di grano duro vede una spiga un po' diversa dalle altre, più alta, con dei chicchi più grossi, e producono una farina che fa un ottimo pane. Senza volere, Ninurta ha appena scoperto il grano tenero, quello che usiamo ancora oggi per fare la farina bianca. I contadini cominciano a piantare i semi delle piante migliori, che producono più farina. È il primo esempio di selezione antropica. Cioè stanno modificando il genoma del grano tenero per selezionare le caratteristiche che più ci servono. Per i millenni successivi l'umanità farà così. Cercherà di migliorare il genoma delle specie ma senza conoscere nulla di genetica. E quindi muovendosi a caso, a tentoni. È un po' come se io cercassi da questo sacchettino di tirare fuori una pallina rossa, ma senza sapere che cosa c'è dentro. Quindi mi muovo a caso. E spesso sbaglio. Dobbiamo aspettare fino al 1800 perché un frate austriaco di nome Gregor Mendel getti le basi per la genetica moderna. E cento anni dopo Watson e Crick presentano al mondo l'incredibile doppia elica del DNA. Vent'anni più tardi, nel 1973, viene presentato il primo vero e proprio organismo OGM, cioè modificato direttamente dall'uomo in maniera specifica nel suo DNA. È la rivoluzione. Non dobbiamo più fare incroci per senzionare le caratteristiche migliori, ma possiamo produrle da noi. È un cambio di paradigma. Io posso guardare ora dentro al sacchetto per tirare fuori la pallina rossa. Capite che è molto meglio, no? L'umanità ha sempre modificato il genoma delle specie. Ora siamo in grado di farlo meglio, in maniera più precisa. Le coltivazioni OGM possono produrre più cibo necessario per sfamare la popolazione mondiale in aumento. Inoltre, le coltivazioni OGM presentano antiparassitari naturali. Quindi non dobbiamo neanche usare fitofarmaci e salvaguardiamo l'ambiente. Il futuro delle biotecnologie è incredibile. Potremmo arrivare a produrre piante che crescono nei terreni inarrediti dal cambiamento climatico, dei batteri che producono idrogeno da usare come combustibile o dei virus per combattere i nostri stessi tumori. Tutto questo, però, se lasceremo alle biotecnologie la possibilità di fare la ricerca in maniera libera e indipendente e senza avere paura degli OGM. E in quest'ultimo sacchettino qua? In quest'ultimo sacchettino qua c'è il futuro delle biotecnologie. Uno strumento così potente da avere sollevato dubbi etici sul suo utilizzo. Ve ne parlerò nel prossimo talk. Grazie. Grazie, Andrea. Molto interessante. Può anche essere utile per le sagre quando devi mettere il bicchiere. Grazie, puoi andare al posto. Seconda presentazione. Le note nascoste della gravità. A presentarci questo intervento è Vieri Candelise. Applauso. È un po' triste pensare che nel 2020 dobbiamo ancora discutere sulla forma della Terra. Terra piattisti di tutto il mondo tentano di convincerci ogni giorno che la Terra sia piatta, adducendo motivazioni un po' bislacche e poco scientifiche. Ma anche io, se mi siedo sul molo audace e osservo l'orizzonte, lo vedrò piatto. Ma se potessi volare fuori dall'atmosfera, sempre più lontano, vedrei sempre di più la curvatura della Terra. È un problema di scala. Anche questa ciambella mi sembra rotonda. Ma se fossi piccolo come un granello di zucchero posto sopra di lei, vedrei tutto quanto piatto intorno a me. Sarei quindi un ciambella piattista. Cosa c'è che non va nella testa dei terra piattisti? Beh, a parte l'ovvio, quello che non comprendono i terra piattisti è il concetto di dimensione. Dipende tutto da quanto sono grande o piccolo, da quanto lontano osservo, e anche da un'altra cosa, dalla gravità, che ci tiene tutti quanti i saldi fermi agendo in ogni punto nello stesso modo. Ma anche la gravità ci può trarre in inganno. Sappiamo benissimo come funziona la gravità tra i pianeti, le stelle, e anche tra la Terra e me stesso. Ma se potessi osservare la gravità a una distanza più piccola di un miliardesimo dello spessore di un capello, vedrei che la gravità praticamente non ha effetto sulle particelle che mi compongono. Com'è possibile? Sembra un paradosso. Io sono qui saldo sul palco perché sento la gravità. Però le particelle che mi compongono è come se non la percepissero. Immaginiamo allora le particelle che ci compongono come dei partecipanti a una festa in una grande sala da ballo. Questi invitati sono tutti quanti molto timidi, non si parlano, stanno seduti ognuno per i fatti loro. È una festa noiosissima. Cos'è che manca in questa festa? Manca la musica che mette tutti quanti in comunicazione, li fa parlare, li fa ballare, rendendo la festa molto più interessante. Dov'è finita la musica? E se la musica fosse nascosta su una soffitta segreta al piano di sopra della sala da ballo, chiusa da un lucchetto quantistico, in modo che nessuno dei partecipanti la possa mai percepire. Nella fisica delle particelle, questa soffitta è come una dimensione aggiuntiva, una quinta dimensione, che si aggiunge alla nostra larghezza, lunghezza, altezza e allo scorrere del tempo che tutti noi ogni giorno percepiamo. Posti di fronte alla quinta dimensione e noi siamo come i terrapiattisti di fronte al mola udace. Non la percepiamo e quindi pensiamo che non possa esistere. Ma in realtà potrebbe esserci. Una delle sfide della fisica moderna è utilizzare la grandissima energia degli acceleratori di particelle per rompere questo lucchetto, socchiudere la porta di questa soffitta nascosta e far uscire qualche piccola nota di gravità. A quel punto, per comprendere i misteri della gravità nel mondo subatomico, non ci resterà che ascoltarla. Grazie. Grazie. Ti ringrazio. Scappa. Va bene. No, va bene. Grazie. Io ero curioso se questa è commestibile. No, non è edibile. Non è edibile. No, va bene. Io avevo fame. Grazie. Che cosa? Era il numero tre. Sì, scusate, perché la seconda è sparita. La seconda è candidata e si è volatilizzata. Quindi questo era il numero tre, mi ricordano. E ora la numero quattro. Con LDL, il camionista pericoloso, signore e signori, Sonia Panico. Buongiorno, io mi chiamo LDL, ma a volte di voi mi conosceranno con il nome di colesterolo cattivo, però io così cattivo non sono. Dovete sapere, il mio lavoro è quello di un camionista e quindi devo trasportare un carico. Il mio carico in questo caso è il colesterolo, che è un grasso, un lipide. E dove lo trasporto? Beh, lo trasporto nelle autostrade chiamate vasi sanguigni. Attraverso queste autostrade arriverò a quelle che sono le nazioni, cioè le cellule, che hanno bisogno del mio carico. E come funziona? Cioè io devo lavorare, devo trasportare questo carico a lungo, fino a quando non arrivo alla frontiera delle nazioni, che rappresenta la membrana cellulare. E qui alla frontiera ovviamente c'è un poliziotto che ha il compito di riconoscermi e quindi è il mio recettore. Quindi che faccio? Gli mostro la mia carta d'identità e lui, se la nazione ha bisogno del mio carico, mi permetterà di passare. E una volta dentro nella nazione potrò lasciare il colesterolo. Però purtroppo non sempre le cose vanno bene. Può succedere che la nazione abbia già avuto il suo carico di colesterolo oppure il poliziotto della frontiera non si presenta a lavoro e io che faccio? Non posso entrare. Sarò quindi costretto a continuare a tornare in autostrada e andare avanti. Però ovviamente se hanno rifiutato me vuol dire che hanno rifiutato anche gli altri miei colleghi camionisti, LDL. E che succede? Si crea traffico nelle autostrade e questo traffico ovviamente non dà problemi solo a noi camionisti ma anche a tutte le altre persone in autostrada. Le auto che trasportano i nutrienti che devono arrivare alle cellule. e che cosa comporta? Questo comporta una riduzione dell'arrivo di questi nutrienti che può portare al fenomeno chiamato ischemia. Ma non solo. Noi camionisti ovviamente dobbiamo prendere anche nuovi carichi di colesterolo e che facciamo? Cioè abbiamo i camion pieni, dobbiamo lasciare il colesterolo vecchio da qualche altra parte. E allora lo lasciamo un po' qui, un po' lì, a bordo strada e piano 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 si crea un ingorgo, un blocco. E questo nel nostro corpo corrisponde a delle placche di colesterolo. Ovviamente questo crea problemi, ovviamente solo a noi no, ma anche ai nutrienti che abbiamo detto prima. E quindi loro non potranno arrivare alle cellule che ne hanno bisogno, quindi alle varie nazioni, e si ha un fenomeno che è chiamato ipossia. Una serie di problemi si accumulano, si accumulano, fino a quando non collassa l'intero continente. Allora che cosa potete fare voi? Beh sicuramente avere uno stile di vita sano aiuta, fate molta attività e cercate di alleggerire un po' il mio carico, perché onestamente mi fareste un grande favore. Ma purtroppo a volte questo non basta. Ci sono nazioni che soffrono di una malattia che viene chiamata colestorelemia familiare, che è data da problemi di burocrazia alla frontiera. Molto spesso il poliziotto della frontiera manco si presenta a lavoro. E in quel caso io spero che la scienza possa aiutarmi, che mi dia un pass. E quindi speriamo che possa entrare. Grazie. L'orribile campanello. Grazie Sonia. Prego, accomodati. Ora parliamo di matematica, perché il titolo del prossimo intervento è Progressioni aritmetiche e colori. A spiegarcelo è Davide Sclosa. Applauso. Progressioni aritmetiche. Che cosa sono? Progressione significa avanzamento. Aritmetica in questo caso significa che ogni salto è uguale al precedente. Una delle progressioni aritmetiche più famose e anche più amate sono i numeri pari. Perché come funzionano? Si parte dal 2, poi c'è il 3 che è dispari, si salta, si fa 4, 5 si salta, si fa 6, 8, 10 e avanti. Si continua ad andare avanti e ogni volta lo salto è sempre lo stesso. Questa è una progressione aritmetica. Qual è un'altra progressione aritmetica forse ancora più famosa? ma di sicuro la più odiata di tutte. Il lunedì. Perché il lunedì? Come funziona? C'è il lunedì. Poi ci sono 6 giorni che non sono lunedì e poi il lunedì purtroppo si ripresenta appena finisce il weekend. 6 giorni, lunedì, 6 giorni e lunedì e così via. Questa è una progressione aritmetica. Se uno ci pensa e le vede in questa maniera si accorge che le progressioni aritmetiche sono nella vita di tutti i giorni e un po' ovunque. E c'è un risultato matematico, un teorema, il teorema di Szemeredi, che dice questo, che le progressioni aritmetiche devono essere ovunque. L'annunciato formale è il seguente. Prendiamo i numeri naturali. Uno, due, tre, quattro e avanti. E li coloriamo a piacere. Diciamo di bianco e nero. L'uno è nero, il due è bianco, nero, bianco, nero, nero, bianco e via avanti. Comunque noi li coloriamo, troremo una progressione aritmetica arbitrariamente lunga tutta nera e una progressione aritmetica arbitrariamente lunga tutta bianca. Mi diamo un esempio concreto di questo. Il teorema di Szemeredi ci dice che ci sarà una progressione aritmetica di dieci giorni di bel tempo. Bene, sono andato a cercarli questi dieci giorni e ho visto che è appena avvenuta la progressione aritmetica di dieci giorni di bel tempo, perché il 2 febbraio era bel tempo, il 4 era bel tempo, il 6, 8, e più avanti fino al 20 che è oggi, ed è bel tempo. Sono dieci numeri pari in progressione aritmetica. Purtroppo il teorema di Szemeredi dice anche che ci sarà una progressione aritmetica di dieci giorni di brutto tempo. Beh, ora, Szemeredi non c'entra nulla e non ha alcuna colpa, ma sembra che non dovremmo aspettare molto per incontrarla questa, perché a marzo il tempo non sarà un granché. Grazie. Grazie, Davide. Numero 5, scusate, mi sono dimenticato di dirlo. Grazie, puoi accomodarti e andarti a riposare. Ora il prossimo intervento ha un titolo molto accattivante. Alcatraz 1962, scenari di sopravvivenza. Sentiamo cosa ci racconta Valeria Di Biagio. Prego, applauso. Baia di San Francisco, isola di Alcatraz, carcere di massima sicurezza. È la notte dell'11 giugno 1962. Frank Morris e i fratelli Anglin diventano i protagonisti della fuga del secolo. Lasciano maschere di carta pesta nelle celle, scappano dalla condotta di aereazione e con una zattera di fortuna sfidano le gelide correnti della Baia. Scattano le ricerche dell'FBI, che su Angel Island, a nord dell'isola di Alcatraz, trovano alcuni effetti personali degli evasi. È un remo ricavato da pezzi di legno. Il caso viene chiuso nel 1979. L'FBI dichiara che gli evasi non hanno mai raggiunto la terraferma. 35 anni dopo, tre ricercatori olandesi mettono a punto una simulazione al computer della fuga da Alcatraz. I ricercatori simulano le correnti nella Baia con un modello idrodinamico, che risolve le equazioni del moto dei fluidi. Vincolano il loro modello a riprodurre i livelli di marea di quella notte, che costituiscono le condizioni al contorno della simulazione. I dati di marea, infatti, sono noti. Provengono dal NOAA, il Servizio Oceanografico Americano. Per ricostruire la traiettoria della zattera, inseriscono nella simulazione un galleggiante virtuale, che viene trasportato dalle correnti. Sanno che gli evasi hanno remato, e quindi inseriscono anche delle piccole variazioni, dei piccoli spostamenti della zattera virtuale, rispetto alla direzione di trascinamento della corrente. Quelle che non conoscono, però, sono le condizioni iniziali della fuga in mare, ovvero ora e punto di ingresso in acqua, e quindi rilasciano 50 zattere virtuali in diversi punti dell'isola a diverse ore della notte. Alla fine, i possibili scenari si riducono soltanto a tre. Scenario numero uno. Fuga prima delle 23. Le correnti verso ovest sono così forti da trascinarli attraverso il ponte del Golden Gate direttamente nell'oceano aperto. Game over. Scenario numero due. Fuga dopo le 24. A marea ormai invertita. Gli evasi vengono trascinati di nuovo indietro all'interno della baglia, dove però non sono mai stati ritrovati. Morte certa per ipotermia. E anche in questo caso, game over. Scenario numero tre. Fuga tra le 23 e le 24. Arrivano nei pressi del ponte proprio quando la marea si inverte. Remando vincono le correnti che in quel momento sono deboli e raggiungono finalmente la riva più vicina. Il terzo scenario prevede anche che i resti della zattera vengano poi trascinati a nord, su Angel Island, proprio dove l'FBI aveva ritrovato il remo. Il destino degli evasi dipende quindi inevitabilmente dalle condizioni iniziali, che non sono note in questo caso, come in molti problemi scientifici. Ma i ricercatori hanno dimostrato che Morris e i fratelli Anglin una possibilità ce l'hanno avuta. Chissà, magari ce l'hanno fatta davvero. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Arredato sul finale Ora Prossimo intervento Il concorrente numero 7 il 50% delle persone mente e l'altra metà, anche. Jessica Vascotto Applauso. Buongiorno a tutti, allora iniziamo con una domanda curiosa, alzi la mano chi ha detto una benzogna nelle ultime 24 ore? Alzi le mano, vedo poche mani alzate, chi non ha alzato le mani può inserire questa come prima benzogna della giornata, infatti circa tutte le persone ammettono di mentire circa una o due volte al giorno, ma in una ultima ricerca in dieci minuti si sono trovate circa 2,18 menzogne, quindi in dieci minuti più di due menzogne e sebbene reputiamo il comportamento del mentire molto sgradevole, in realtà mentiamo tutti e per diverse ragioni e ora forse iniziate a intuire perché non c'è più nessuno che vuole venire a bere un caffè con me. Ho iniziato a studiare questa materia e quindi come ci muoviamo, che espressioni facciamo, che tono della voce usiamo quando mentiamo perché iniziamo ad osservare che non tutto, quello che le persone pensano non è esattamente così. Ora vi faccio fare un po' di ginnastica, alzi la mano chi pensa che chi mente non guardi negli occhi, quindi se pensi che chi mente non guarda negli occhi alza la mano. Adesso invece alzi la mano chi pensa che chi mente si muove molto, si agita, muove soprattutto mani e braccia, quindi se pensi che chi mente si agita e alzi la mano, alzi la mano. Allora se avete alzato la mano per almeno una di queste due affermazioni sappiate che siate in linea con la maggior parte delle persone che reputano questi comportamenti i comportamenti del mentitore, ma in realtà sono ciò che noi pensiamo che il mentitore faccia e non quello che fa realmente, perché chi mente ti guarda negli occhi, ha bisogno di un tuo feedback, ha bisogno di capire in poche parole se gli stai credendo oppure no. Chi mente inoltre si muove poco, diminuisce i suoi movimenti perché l'atto del mentire è molto faticoso e le nostre risorse cognitive sono occupate tutte nell'atto del mentire. Provate a correre e fare un'equazione matematica, vedrete che la velocità della vostra corsa diminuisce e questi sono solamente due degli stereotipi che ci sono attorno alla menzogna e questo secondo me è una delle grandi forze della scienza, abbattere stereotipi e credenze. Il mio tempo è finito, ma se volete vi aspetto al bar per un caffè. Grazie Jessica, se ne scappano tutti il numero 7. E ora la prima presentazione in inglese, perché il regolamento ammette anche le presentazioni in inglese, così facciamo anche un po' di esercizio. E la mattinata è lunga, pazienza. Silenzio perché si deve concentrare. Il prossimo concorrente, il titolo del suo intervento è Parkinson Spoon. Fate un grande applauso a Darman Monsenzadeh. Prego. Buongiorno. Hand tremor is something that you probably have experienced. It may happen occasionally when you are nervous or you are in a stressful condition like giving speech and stage. But there are some people who suffer from this issue every day and every moment. Unfortunately, these people suffer from this issue and their daily routines like eating. And having a special spoon which can reduce or eliminate this vibration can be really helpful for them. Utilizing TMD is one of the ideas to having such a spoon. TMD or Tuned Mass Damper is a device which consists of damper, spring and oscillating mass and oscillating mass and should be mounted in a special location and the structure to reduce the vibration. Actually it works. I mean it absorbs the vibration of the main structure by vibrating itself and having the mechanical properties of the structure which is spoon in our case and considering the excitation you can design and evaluate the parameters of the TMD. So it looks everything is fine and you can have the spoon that you want. But there's a small problem here which is that, just imagine, you are eating with a spoon and there is something attached to it and vibrates when you are eating. For sure you will not enjoy your meal if you can manage to eat in this condition. Okay. There should be some other solution and thanks to recent advances in and manufacturing technologies and in particular additive manufacturing and 3D printing will help you to construct this structure which is compact and integrated having the TMD in itself. This structure is called metastructure. Apart from appearance, metastructure can provide you some other advantages like having less weight by adding the TMDs. And it's not all the story. You can also customize your spoon easily for each patient using this additive manufacturing and utilizing the metastructure that they explain. You can also apply the same concept to the other applications. For example, having a special pen for writing for the same patients. Thanks. Thank you, Arman. You can relax a bit now. Arman è la concorrente numero 8 e ora un gomitolo di lana, di lana, scusate, per nonna. A parlarcene è Veronica Bazzani, concorrente numero 9. Applauso! Capita, tutti i giorni, di dover spostare un oggetto da una stanza all'altra. È un'azione che facciamo senza nemmeno pensarci. Ipotizziamo, per esempio, di trovarci in camera nostra. Stiamo studiando quando nostra nonna ci chiede di portarle un gomitolo di lana, come questo. Beh, quello che facciamo è prendere il nostro gomitolo, aprire la porta della nostra stanza, attraversare il salotto dove sicuramente i nostri cuginetti stanno giocando, aprire la porta della camera di nonna e finalmente consegnarle la lana. Tutto molto semplice, no? Ma cosa accadrebbe se le porte di casa nostra fossero tutte quante chiuse a chiave? Beh, ovviamente nessuno si sogna di lasciare nonna senza lana e quindi ci viene un'idea. Decidiamo di srotolare il nostro gomitolo e farlo passare attraverso il buco della serratura. In questo modo la lana arriverà sicuramente in salotto e poi potremo chiedere ai nostri cuginetti di aiutarci, portarla fino alla porta che li separa da nonna e fare lo stesso. E così nonna sarebbe pure felice perché riuscirebbe a finirci quel maglione che non vede l'ora di regalarci per Natale. Beh, il meccanismo che vi ho appena descritto non è tanto diverso da ciò che accade a livello mitocondriale per il trasporto delle proteine. I mitocondri, lo abbiamo sentito dire tutti, sono quegli organelli in grado di produrre l'energia che fa funzionare tutte le nostre cellule. Però per funzionare a loro volta hanno bisogno di internalizzare proteine, ovvero gomitoli di lana, che vengono prodotti nel citoplasma. E proprio come nel nostro esempio, per arrivare all'interno dei mitocondri, devono attraversare delle porte chiuse a chiave. La prima di queste porte si chiama TOM e permette alla nostra proteina srotolata di arrivare nello spazio intermembrana, dove altre proteine, i nostri cuginetti, la indirizzeranno poi nel compartimento finale corretto. Per esempio, se la nostra proteina deve arrivare in matrice, la camera della nonna sarà indirizzata verso la seconda porta chiusa a chiave, il cui nome è TIM. Ovviamente l'intero processo è finemente regolato, nessuno vorrebbe mai che i nostri cuginetti facessero arrivare la lana in bagno o, peggio, che portassero a nonna un rotolo di carta igienica. Ma come avviene questa regolazione? Beh, osserviamo più da vicino al nostro gomitolo. Noterete che sono presenti dei nodini. Questi nodini, a livello proteico, altro non sono che delle sequenze specifiche di amminoacidi. Le proteine mitocondriali hanno una sequenza che si chiama mitocondrial targeting sequence, che dice loro di andare nel mitocondrio. La cosa interessante è che molto spesso queste proteine mitocondriali hanno poi un'altra sequenza ancora più specifica che permette loro, una volta entrate nel mitocondrio, di essere indirizzate nel compartimento finale corretto. Non è infatti detto che tutta la lana debba arrivare a nonna. Magari qualche gomitolo potrebbe servire a nostra zia e chissà che per la fine dell'anno, oltre ad un maglione, non riusciremo ad avere anche una sciarpa e un cappello. Grazie. Grazie Veronica. Più rilassata? Sì. Bene, adesso puoi andare a prendere un respiro. E allora adesso l'ultimo concorrente di questa prima sezione, poi vedremo gli altri sette che si esibiranno nella seconda parte dopo una breve pausa. 8, 7, 8, non so, 8. Quanti sono? 8, va bene. Allora, l'ultima sorgente di energia nell'universo a presentarcelo è Francesco Costa numero 10. Applauso! In una galassia lontana lontana si trova una civiltà tecnologicamente molto avanzata che si sta però avvicinando all'estinzione. L'universo si sta avvicinando al suo stadio finale, la morte termica. La temperatura sta diminuendo e le ultime giganti rosse si stanno spegnendo. Le risorse di pianeti e satelliti vicini si stanno mano a mano terminando. Quali sono le speranze per questa civiltà? Quali le sordenti di energia che possono utilizzare? La situazione sembra disperata quando anche l'ultima stella, l'ultima luce che possono ricevere non sarà più disponibile per loro. C'è però un signore, un tale Einsteinius, che proporre un nuovo metodo di estrazione di energia. Potrebbero usare gli oggetti più bui dell'universo, i buchi neri. Sembra follia. Questi oggetti così maestosi e così terribili sono gli oggetti più estremi che conoscano. Derivano dal collasso finale delle stelle e hanno un'energia di rotazione enorme. Oggetti così densi che esiste una distanza alla quale la velocità necessaria per fuggigli è la velocità della luce. Niente quindi da qui può più uscire. L'orizzonte degli eventi. Sembra impossibile che questi oggetti quindi possano aiutarli. Sembra che l'unica cosa che possano fare sia attrarre tutto ciò che troppo gli si avvicina. In loro aiuto arriva però un altro signore, Penrosius, che dice forse potremmo estrarre questa energia grandissima rotazionale che hanno questi oggetti. Nel frattempo Einsteinius aveva già spiegato come lo spazio-tempo sia modificato da tutti gli oggetti che ci vivono sopra. Lo spazio-tempo nelle vicinanze di un buco nero che non ruota assomiglia ad un imbuto che attrae verso il centro tutto. Mentre lo spazio-tempo di un buco nero ruotante assomiglia di più a un vortice che attrae sia verso il centro ma facendo ruotare. Si mettono quindi a studiare questi oggetti e scoprono che esiste una regione all'esterno dell'orizzonte degli eventi in cui non si può stare fermi. In questa regione non ha nemmeno senso pensare ad un oggetto fermo. Tutto è portato a muoversi e a ruotare attorno dovuto al trascinamento del buco nero sullo spazio-tempo stesso. A questo punto quindi Perrosius propone un'idea. Se lanciamo un razzo verso l'interno di questa zona chiamata ergosfera questo inizierà a ruotare sempre più velocemente. Gli chiedono ma come facciamo a farlo uscire? Facile. Lo facciamo separare in due pezzi. Uno diretto verso l'interno e l'altro per la conservazione della quantità di moto verso l'esterno. Ecco che il razzo uscente avrà un'energia superiore alla somma dei pezzi entranti, addirittura contando la massa persa dentro il buco nero. Studiano quindi questo processo e scoprono che non solo possono estrarre un'energia dal buco nero rotante ma questo processo è 20 volte più efficiente della fusione nucleare. La storia finisce qui. Non posso dirvi che vivranno tutti felici e contenti ma perlomeno grazie a questi due grandi della scienza hanno una speranza per il futuro. Grazie Francesco. Stavi chattando con qualcuno? No, però ho problemi di attenzione quindi... Va bene, va bene, va bene. Ok, allora adesso è arrivato il momento per la nostra giuria di fare un po' una riflessione su quanto avete visto fino a questo momento quindi potete accomodarvi nella vostra stanzetta sul retro. Stiamo aspettando il nostro ospite che sta arrivando e mi ha scritto un messaggino per cui dobbiamo prendere un attimo di tempo. Come va lassù la radio? Qua va molto bene, va molto bene. Siamo pieni di seguaci. Pieni di seguaci addirittura? Ma come si chiamano i vostri collaboratori? Perché io non vedo niente là in alto. Allora, io sono Michele. Io sono Leonardo. Ciao Michele. Dopodiché ci aspettano Luca, Andrea, Lisa e Elisabetta. E voi siete studenti del Galilei? Del Galilei, sì. Di che classe? Cosa vi ha portato a fare questa avventura? Beh, forse il credito. No, no, assolutamente. Questo è molto onesto da parte vostra. Sì, più onesto possibile. No, sicuramente l'aspetto della comunicazione è molto interessante. E cosa avete la vostra impressione sulle esibizioni che abbiamo visto fino a questo momento? Beh, molto interessanti. Certa gente è veramente brava, soprattutto con le metafore. È veramente interessante. Non vediamo l'ora di ascoltare i prossimi concorrenti. E il vostro supervisor lì, che cosa c'ha da raccontare? Che lo vedo nascosto nell'ombra. Ma in realtà poco da raccontare perché sono bravissimi. Sono bravissimi? Sì, sì. Ma dove sta, scusa, una domanda. Dove sta andando in onda questa cosa che state facendo? Sono in diretta sulla pagina Facebook dell'immaginario scientifico. Ah, ok. Scusate, ho una comunicazione di servizio. Metteteci qualche like se ci state guardando perché loro si stanno impegnando veramente tantissimo. Sono bravissimi. Sono bravissimi. Ma quanti sono, abbiamo detto? Sono sei di loro, fanno a gruppi di due per tutta la giornata. Ah, ok. È una maratona praticamente. Noi saremo vagamente più brevi di Sanremo, ma non tanto. Quindi alla fine sarete un po' stanchi. Allora, il nostro ospite sta parcheggiando, quindi abbiate pazienza ancora un secondo. Io approfitto per ricordare, prima vi ho parlato che Trieste sarà città... Lo sapete che Trieste sarà città europea della scienza nel 2020? Eh, come? Lo sarà. Ci sarà un grande convegno internazionale con più di 5.000 partecipanti che si svolgerà in Portovecchio tra il 5 e il 9 luglio 2020, ma voi non potrete partecipare, in cui si parlerà delle frontiere della scienza. Ma ci sarà un grande... Io prima ho distribuito un po' di... Ce l'avete? Bravi, leggete. È scritto poco, per cui potete leggere. Un grande festival aperto a tutti per due settimane, dal 27 giugno all'11 luglio. Organizzatevi le vacanze, perché ci sarà un programma di eventi fittissimo, con teatro, musica, performance, mostre, un sacco di roba per due settimane. Tutto aperto, tutto gratis, che è sempre una buona cosa. Insomma, un grande Science in the City Festival aperto a tutti. E FameLab parteciperà a questo evento, perché ci sarà il FameLab International All Stars. L'8 luglio, segnate la data, ci sarà uno show competizione internazionale di comunicazione della scienza. Insomma, ci saranno i migliori performer di FameLab, provenienti da tutta Europa, ex finalisti del concorso, che si esibiranno su un palcoscenico all'aperto, parlando di sfide della ricerca all'avanguardia, a come sempre, in soli tre minuti. Dalla matematica alla medicina all'ingegneria, affronteranno tutte le aree del sapere, per sottolineare le connessioni interdisciplinari tipiche della ricerca moderna. Ora, io sto aspettando Filippo Giorgi, che non sta arrivando, sta arrivando, non sta arrivando. Forse arriva, chi lo sa. Io so che tra i professori in sala c'è un ex concorrente di FameLab, è vero? Dov'è? Vieni qua, vieni qua che mi salvi la vita, vieni. Mi dai un microfono? Eccolo. Applauso per il professore! È che mi avevano distratto mentre mi stavi chiamando. Tu mi devi salvare la vita in questo momento, lo sai. Allora, raccontami quando hai partecipato, perché dobbiamo prendere un po' di tempo. Quando hai partecipato a FameLab? Allora, stavamo prima facendo poi conti. Allora, io ho fatto la selezione qua a Trieste nel 2013. Ah, quindi sei... Che era l'anno in cui mi ero, cioè mi sono laureato alla magistrale, quindi ho fatto la selezione qua a Trieste. Ho vinto insieme a una ragazza che si chiama Vittoria, non mi ricordo. Insomma, erano comunque sette anni fa, insomma. Vittoria per gli amici. Dopodiché siamo andati a fare la finale a Perugia, perché c'è quell'anno, ma come credo fino all'anno scorso, la finale è sempre stata fatta a Perugia. Prima ci hanno fatto una masterclass, quindi siamo andati tre giorni per fare un po' di corsi. Di training. Esatto, di training così, e dopo c'è stata la finale a giugno e lì non ho vinto io, però ho vinto una Ilaria Zanardi di Genova, che ha fatto una presentazione molto interessante sul fatto che abbiamo più di cinque sensi, quindi oltre ai soliti cinque sensi che si vedono a scuola, abbiamo anche, non so, il senso dell'equilibrio, il senso dello scorrere del tempo, insomma. E tu cosa avevi presentato? E ho fatto una cosa, invece, visto che ero molto preso dall'astrobiologia a quel tempo, allora avevo fatto una presentazione riguardo le forme di vita che vivono, cioè batteri che vivono in situazioni un po' estreme, diciamo. Il problema di base è che non essendo io biologo, bensì fisico, allora era un territorio un po' scivoloso, infatti dopo, c'è anche il video, finita la presentazione c'era una giornalista della RAI che mi ha ammazziato perché avevo sbagliato un termine tecnico. Però l'esperienza è stata divertente. Però è stato molto bello perché dopo l'Inaf invece mi hanno dato il premio per la presentazione in fisica, visto che eravamo in tre, e il premio è stato andare a Cheltenham, dove fanno la finale internazionale, però come pubblico, quindi sono andato e non avevo nemmeno lo stress della performance. Quindi è stato bellissimo. Molto bello, quindi è stato un anno interessantissimo. Ti ringrazio molto, il professor Giorgi è arrivato, adesso se mi aiuti a portare una sedia, facciamo anche sfruttamento. Sfruttamento del prof. Grazie. Eccoci, abbiamo anche sfruttato il professore. Siamo pronti, siamo pronti. Così. Eh? Così. Qua, così. Grazie, ti devo molto. Ciao Simone, grazie, grazie al professore che ha portato. E benvenuta il professor Giorgi, che stava parcheggiando. No, allora, parliamo di un tema importantissimo, ci sediamo, se io sto un attimo in piedi, un tema scottante, perché parliamo di global warming, riscaldamento globale. Non passa settimana che non venga data notizia degli effetti diretti e indiretti del riscaldamento globale. Una delle ultime è stata che all'Antartide hanno toccato, sono cassiste, penne e cascano, 18,3 gradi. 20,7. Li do già il microfono. Insomma, parliamo di un problema che è molto complesso, che riguarda il clima, ma anche molte altre ripercussioni di carattere economico, sociale, immigrazione, alimentazione, acqua. Insomma, veramente un problema complesso. Cosa possiamo fare? Parleremo con uno dei massimi esperti al mondo, che è il professor Filippo Giorgi, che è qui, che è uno scienziato davvero di fama internazionale. Collabora con moltissimi anni con l'IPCC, che è l'Intergovernmental Panel on Climate Change, che è l'organizzazione più autorevole per quanto riguarda le ricerche sul clima, che è stato premiato nel 2007 con il premio Nobel per la pace e che lavora all'ICTP, al centro di fisica teorica Abdul Salah, che si trova a Miramare. E quindi ci potrà dire alcune cose molto interessanti, appunto, sulla situazione che stiamo vivendo. Allora, benvenuto professore, ci sediamo un pochino. Allora, a che punto stiamo? Siamo tutti che ci misuriamo la febbre per il coronavirus, ma qual è la temperatura della Terra? Anche la Terra, questo coronavirus ha colpito anche la Terra, perché l'anno scorso penso che sarà il secondo anno più caldo di sempre. Tra l'altro, nell'ultimo anno, anno è qualcosa, sono avvenuti degli eventi veramente inauditi. C'è stato appunto queste temperature in Antartide, ma ci sono stati gli incendi in Australia. L'estate scorsa c'è stata l'ondata di calore qui in Europa, simile a quella del 2003. Adesso, se pensiamo che questi sono eventi, dovrebbero accadere una volta in 10.000 anni, in un clima normale. Ci sono stati 3 in 20 anni, quindi ci rendiamo conto di come le cose stiano veramente cambiando. E in più, la situazione forse più preoccupante è la situazione della Groenlandia, perché quest'anno, a causa di questa ondata di calore, c'è stato uno scioglimento 3-4 volte maggiore della media e quello è un grandissimo problema, anche perché non si riesce a capire molto bene perché stia avvenendo. Non è solo questione di temperatura, è anche inquinamento che sembra contribuisca a rendere più scura la neve, e quindi farla sciogliere di più, eccetera. Quindi stiamo assistendo anche qui in Italia, la Tempesta Baia, la Quarta di Venezia. Anche l'inverno triestino non è stato... Ormai, diciamo, il clima è cambiato, continua a cambiare, è cambiato. Una curiosità, voi come scienziati, come fate a studiare il clima? Perché voi dite fra 30-40 anni succederà, potrebbero succedere... Potrebbero succedere, noi puntualizziamo, non è che si possa prevedere quello che succederà fra 30-40 anni, noi facciamo degli scenari, usiamo dei modelli climatici, ne abbiamo qui a Trieste, ma ci sono collaboratori in tutto il mondo che hanno modelli climatici, ci sono sostanzialmente delle rappresentazioni matematiche del funzionamento del clima, che poi vengono risolte in maniera numerica su questi mega-iper-supercomputer, ormai sono veramente fantascientifici, e ci dicono come il clima potrebbe evolversi se le emissioni di gas serra prendono determinate traiettorie, che poi dipendono dallo sviluppo socio-economico, i famosi scenari, lo scenario Greta, lo scenario qualcun altro... Sì, in questo momento stiamo nel cosiddetto scenario business as usual. In questo momento siamo ancora, direi, nella traiettoria del business as usual, che è lo scenario più preoccupante, diciamo così. Anche se, secondo me, qualche segno positivo... Ci dia un po' di speranza, quali sono questi segni positivi? Ma diciamo che le emissioni sia in Europa che negli Stati Uniti sono in fase di decrescita, principalmente perché ormai, diciamo, questo passaggio alla green economy, quindi all'uso di energie rinnovabili, maggiore efficienza energetica, anche dal punto di vista economico è diventato più conveniente. Oggi è molto più conveniente fare una centrale eolica, una centrale fotovoltaica, piuttosto che una centrale a carbonio. Ormai le centrale a carbonio non si fanno più. Tranne che qualcuna in Cina, ecco. Nel suo libro che ho dietro le quinte, purtroppo perché dopo lo mostrerò, in cui lei racconta in sei domande, si chiama L'uomo e la farfalla, ve lo consiglio, perché in sei domande, in maniera molto semplice, racconta quali sono le grandi questioni legate al cambiamento climatico. Lei dice che le alternative tecnologiche all'uso di combustibili fossili esistono e questi costi sono sostenibili, anzi sono convenienti. È vera questa cosa? È assolutamente vera. Io sono molto in contatto con l'Enel, adesso non voglio fare pubblicità all'Enel, comunque come magari qualcuno di voi saprà, l'Enel sta dismettendo tutte le centrali termoelettriche e sta costruendo solamente centrali eoliche, fotovoltaiche, diciamo, ad energie rinnovabili. E loro esperti mi dicono che già oggi con le tecnologie che abbiamo, quindi non bisogna scoprire niente di fantascientifico, potremmo produrre tutta l'energia necessaria al mondo per andare avanti. Più che altro problema, il punto in cui si stanno focalizzando è più sulla distribuzione dell'energia, che il sole oggi c'è, magari domani no, il vento oggi c'è, domani viene a Bora. Quindi lo stoccaggio e la distribuzione dell'energia forse è il problema principale, ma ormai già si può fare, già si sta facendo, ma l'altro segno ottimistico è che viene da paesi cosiddetti emergenti, adesso il più grande emittore è la Cina, ma la Cina è anche il paese che si sta muovendo di più verso la green economy. Sì, perché c'è questa cosa, l'Europa è molto molto attenta, in altri paesi chi viaggia, insomma, io sono stato in India un anno fa, non hai l'impressione che proprio ci sia un'attenzione grandissima. No, però sta cambiando, anche in India io ho sentito una presentazione di un esponente del governo indiano che ha detto che loro hanno, sono appena partiti con un'iniziativa, loro hanno cinque grandi iniziative da qui al 2030, ridurre la povertà, eccetera. una di queste la chiamano solar mission, significa fornire tutte le abitazioni indiane di pannelli fotovoltaici entro il 2030. Sono tante queste abitazioni, quindi, però, è sicuramente un segno positivo. C'è molta, ne parla anche nel suo libro, preoccupazione per i nostri modelli di vita, dice, noi non possiamo rinunciare a quello che abbiamo e quindi dobbiamo per forza far fronte a disagi e anche alle conseguenze che i nostri standard di vita ci stanno portando, insomma, richiedono. Lei cosa ne pensa? Ma io non la vedo così esattamente, secondo me non è una questione di dover rinunciare a qualcosa, è una questione di gestire meglio le risorse che abbiamo. Oggi noi viviamo nella civiltà dello spreco. Sprechiamo tutto, sprechiamo energia. Io, come dico anche nel libro, una cosa che mi ha aperto molto gli occhi è, stendo ad una presentazione dell'amministratore delegato, la British Petroleum, quindi, diciamo, dall'altro lato della barricata, se vogliamo, il primo slide che ha messo dice oggi sprechiamo dal 60 al 65% di energia, sia nell'estrazione, nella produzione, nel trasporto, nell'uso. Chioto, per dirne una, il famigelato protocollo di Chioto, richiedeva una diminuzione del 5%. Uno dei motivi per cui sprechiamo, a parte viviamo nella società dello spreco, è che i motori termici, quindi i motori a combustibili fossili, hanno un rendimento molto più basso dei motori elettrici. Quindi già se elettrificassimo di più la nostra vita miglioreremmo di molto l'efficienza energetica e poi appunto questa energia può essere prodotta dalle fonti rinnovabili. Io in genere faccio l'esempio della California. La California oggi, diciamo negli anni 70, quando ci fu una crisi energetica, gli anni di Jimmy Carter, per chi ha qualche capello bianco come il mio, ha implementato tutta una serie di politiche di efficienza energetica, ma banali, cioè frigoriferi a più più macchine. Oggi la California ha un uso pro capite di energia elettrica più basso della media europea, mentre gli Stati Uniti hanno il doppio della media europea. E se andare in California non mi sembra che vivano tanto male. Quindi si tratta anche di utilizzare meglio l'energia che viviamo. Assolutamente, lo spreco alimentare. Uno dei problemi sono gli allevamenti intensivi, le emissioni di metano. Adesso uno si può mettere a ridere e dice sì, vabbè, ma già mangiare meno carne aiuterebbe non solo la salute ma il pianeta. Adesso dobbiamo diventare tutti vegetali. Quanti vegetariani ci sono nella sala? Una. Una. Due. Due. Ogni volta chiedo questa cosa. Non arriviamo mai a più di una mano. Adesso io non dico che tutti i leboni interi vegetariani. Però è vero che gli allevamenti intensivi hanno un impatto sul pianeta. Un impatto molto grande perché il metano è un gas ferra 30 volte più potente dell'energia carbonica. E soprattutto lo spreco alimentare. Noi oggi sprechiamo 30% del cibo che viene prodotto. Allora tu pensa, tu hai una bistecca, a un certo punto, per fare una bistecca occorrono 20.000 litri d'acqua, occhio e croce, dati della FAO. A un certo punto dici, no, non mi va più, ne butti via metà, hai buttato via 7-8.000 litri d'acqua. Sì. No, buttiamo via tantissimo. Quindi già una gestione più oculata delle risorse ci farebbe fare un grandissimo passavanti. Nel suo libro lei racconta che, come ho anche accennato prima nella presentazione, che non è soltanto una questione di clima, è anche una questione sociale, sanitaria, economica, geopolitica. Cioè il cambiamento climatico ha delle conseguenze che non riguardano soltanto lo scioglimento dei ghiacciai e l'inalzamento delle acque, di cui abbiamo sentito parlare tante volte, ma ci sono anche altri aspetti meno evidenti che forse di cui possiamo parlare e che però sono molto importanti. Ma sì, perché insomma il clima influenza tutta la nostra vita, tantissimi aspetti della nostra vita. C'è il problema dei cosiddetti migranti climatici. Ma adesso, per fare un esempio, noi abbiamo fatto un piccolo gioco, siamo andati a vedere nello scenario business as usual le nostre città italiane, che clima avrebbero? Qual è la città oggi? Business as usual vuol dire che non cambia niente. Che non cambia niente. Continuiamo ad andare avanti. Quindi 4-5 gradi di riscaldamento corpore del fine del secolo, che è una cosa pazzesca, una cosa che la Terra non ha mai visto. Mai, mai. Cento anni, 4 gradi. Se dovesse accadere, la Terra pazzirebbe, il clima... Vivremmo in un pianeta completamente diverso. E si parla di 80 anni, non si parla di... Sì, milioni di anni come ai tempi dei dinosauri. Il clima di Trieste, del fluo di Venezia Giulia, sarebbe simile al clima della Sicilia. Il clima di Roma, di Roma, Napoli, eccetera, sarebbe come il clima del Nord Africa, anzi addirittura delle zone proprio desertiche. È come se prendi l'Italia e la sposti 2000 km più in basso. Adesso pensiamo da dove vengono i migranti. Quindi fra 80 anni chi saranno i migranti? I migranti saremmo. Cioè pensiamoci prima di parlare di queste cose qui. Perché ci sono anche, e questa è una cosa che io non sapevo, ci sono delle zone in cui il cambiamento climatico è più accentuato di altre. E che si chiamano le hot zone, credo, gli hot spots. Hot spots, ecco. Noi ci stiamo in mezzo, tra l'altro, perché il Mediterraneo credo sia una zona calda, giusto? Sì, sì. Tra l'altro ho inventato io questo nome. Ah, vabbè. Insomma, io l'ho acquisito. Nella comunità scientifica, ho scritto il primo articolo su queste cose, proprio perché volevamo andare ad individuare quali sono le zone. Diciamo, la zona hot spot per eccellenza è l'Artico, che si sta riscaldando tre volte più della media globale, insomma, due gradi e mezzo, tre, mentre a livello globale siamo ad un grado. L'Artico si riscalda perché si sciogliono i ghiacci, diminuisce la riflettività, eccetera. Ma ci sono altre zone, in particolare il Mediterraneo, perché quello che ci aspettiamo, quello che ci dicono i modelli, è che uno degli effetti del riscaldamento globale è di spostare le perturbazioni verso i poli. Quindi perturbazioni che normalmente porterebbero alla pioggia qui, si spostano verso nord, quindi il centro e il nord Europa ricevono più pioggia, noi ne riceviamo molta di meno. Già il Mediterraneo è una zona abbastanza arida, soprattutto il Mediterraneo meridionale, avrebbe ancora meno. Ma per dirne una, come si evolveranno le piogge nel futuro, questo pattern di piogge viene chiamato i ricchi saranno ancora più ricchi e i poveri ancora più poveri, nel senso che le zone dove già adesso piove poco pioveranno ancora di meno. Quelle dove già adesso piove molto avranno ancora più pioggia. Questo per dire che l'acqua, la disponibilità di acqua, sarà veramente il tema fondamentale di questo secolo, perché ridurre i ghiacciai significa ridurre la disponibilità di acqua. I ghiacciai sono il maggiore riserbatoio d'acqua sul pianeta, riserbatoio acqua dolce, usufruibile. Quindi ridurlo, pensa per l'Himalaya, ci sono interi continenti che dipendono dalle acque dell'Himalaya. E in più questa distribuzione geografica, che diciamo non esattamente etica, chiamiamola così, e questi paesi che avranno più pioggia già si stanno organizzando a questo. Per esempio? L'ho sentito che per esempio in Russia stanno costruendo acquedotti. Cioè quelli di oggi sono i gasdotti, perché petrolio, fra vent'anni non si usherà più, diventeranno acquedotti. Quindi la ricchezza sarà l'acqua? La ricchezza sarà l'acqua. Senza petrolio si vive, senza acqua non si vive. Quindi dipenderemo, se le cose continuano così, ancora di più da altri paesi e da altre situazioni. Quindi io, se non si fa qualcosa, non la vedo benissimo, soprattutto per la nostra area. Qui abbiamo comunque 230 ragazzi e ragazze delle scuole, quindi... Però quello è l'altro aspetto positivo. Ma dopo ne parliamo. Chiudiamo con questo. Allora, quali sono i provvedimenti che si possono prendere? Allora, tutti i possibili accordi che sono stati fatti non sono andati benissimo, possiamo dirlo. Allora, diciamo che non è stato fatto nessun accordo, nel senso che l'unico vero accordo è stato il protocollo di Chiotto. Il protocollo di Chiotto. Che però, se ti ricordi, è entrato in vigore tipo due anni prima della deadline, quindi insomma alla fine neanche quello. Perché anche l'accordo di Parigi... E il famoso accordo di Parigi. Il famoso accordo di Parigi che dice che bisogna limitare il riscaldamento al di sotto di due gradi rispetto al preindustriale e quindi significa un grado rispetto a quelli attuali, quindi non ci siamo tanto lontani. Non è un accordo vero, un accordo vincolante. È una espressione di buoni propositi. È stato importante perché per la prima volta tutti i paesi hanno detto sì, questo è un problema importante, dobbiamo fare qualcosa. ma poi che cosa fare? Sono contributi volontari, li metti insieme e si sfora di parecchio, di due gradi. Quindi a quel livello lì non credo succeda molto. Incidentalmente, quest'anno, la Coppa è organizzata anche dall'Italia, quindi l'Italia e il Regno Unito. e l'Italia com'è messa dal punto di vista delle emissioni? All'Italia, secondo me, non male, nel senso che anche in Italia c'è questa spinta verso la green economy che sta andando avanti, le rinnovabili stanno crescendo, ci sono ancora delle sacche di resistenza sui fossili, tra l'altro, molti sanno che i fossili si usano ancora perché sono degli enormi sussidi che vengono dati. quindi viene sostenuto dal settore pubblico. Questo non si dice ma viene sostenuto almeno in Italia. Però io direi che anche in Italia, in Europa in generale, tranne alcuni paesi come la Polonia che vivono sul carbone quindi chiaramente loro si oppongono a tutto, la situazione non è malvagia. Io faccio esempio il Portogallo. in Portogallo l'anno scorso c'è stato un giorno in cui tutta la fornitura elettrica è stata da fonti rinnovabili. Anche quella di Lisbona, uno dice sì, come fa il lumina a Lisbona? Con le grandissime città. Loro ci sono riusciti per un giorno ma ci sono riusciti. Quindi se lo fanno loro possiamo farla anche noi. La penultima domanda riguarda lei nel libro parla di politiche di adattamento e politiche di mitigazione perché è interessante perché noi tutti pensiamo vabbè smettiamo di emettere gas serra. Però il problema è che comunque non è che si ferma se oggi smettiamo di emettere gas serra torna tutto come prima in dieci minuti. Quindi queste politiche di adattamento e politiche di mitigazione sono piuttosto interessanti perché sono due cose due concetti diversi. Due concetti molto diversi. Io nel libro introduco questa frase gestire l'inevitabile ingestibile che cosa significa? Significa che non è che dall'oggi al domani nessuno guida più la macchina nessuno riscala più le gas eccetera ci vorrà un periodo di cosiddetto face out in inglese in italiano non so che parole si fosse di passaggio alle rinnovabili che secondo me è assolutamente inevitabile anche dal punto di vista economico insomma l'era del petrolio secondo me è finita. Che stavo dicendo? Ah sì quindi diciamo nelle prossime decadi il clima continuerà a riscaldarsi io non credo che raggiungeremo questo obiettivo di un grado e mezzo mi sembra super ottimistico probabilmente arriveremo ai due gradi significa un altro grado di riscaldamento quindi significa che questi cambiamenti climatici associati al riscaldamento come l'aumento di eventi estremi scioglimento di acciai innalzamento e continueranno e quindi bisogna fare delle politiche di adattamento a quelli che saranno questi inevitabili cambiamenti e queste politiche la cosa importante è che sono politiche locali perché ogni punto della terra ha dei problemi diversi sì il problema è dell'acqua Venezia è il problema del livello del mare piuttosto che il problema di eventi estremi sulle Alpi eccetera e quindi questo richiede delle politiche di adattamento locali per fare un esempio in Olanda stanno già alzando le loro barriere costiere in previsione in previsione vedendo che il livello del mare si sta alzando e continuerà ad alzarsi stanno alzando gli argini del Tamigi perché hanno degli eventi intensi sempre più forti quindi io penso che se si fa progettualità sul territorio specialmente con tempistiche di 10-20 anni bisogna considerare l'elemento clima la mitigazione è una cosa diversa la mitigazione significa appunto riduzione delle emissioni ed è un problema globale perché non basta che lo faccia l'Europa o gli Stati Uniti devono farli tutti anche perché una volta messi questi gas in atmosfera ci rimangono 50-100 anni quindi qui ci arriva la CO2 messa in Cina qui non ci sono i muri l'atmosfera non ha muri le molecole di CO2 vagano e arrivano anche qui e quindi è un problema che deve mettere a corto tutti ed è anche un problema urgente perché tutto quello che facciamo adesso sarà lì per i prossimi 50-100 anni quindi adesso che bisogna cominciare quella discesa che nel 2050 dovrebbe essere 80% nel suo libro e questa è l'ultima domanda lei dice sembra quasi che ci sia una polarizzazione che l'effetto sterra esista o non esista a seconda di chi ne parla volevo sapere una sua opinione su questo come se ci fosse un dibattito sulla questione lei dice nel libro in realtà questo dibattito non c'è perché i dati sono abbastanza chiari volevo un suo commento su questo e per chiudere visto che qui abbiamo un sacco di persone giovani che probabilmente hanno seguito il fenomeno e stanno seguendo Greta Thunberg lei nel suo libro che è stato pubblicato due anni fa prima di Greta prima di Greta purtroppo ci avrei messo un capitolo su Greta lei aveva nel libro aveva anticipato aveva detto ci serve una spinta dal basso ed è comparsa Greta Thunberg allora non so se lei è stata ha letto il libro perché ha letto il libro chiaramente volevo sapere che cosa ne pensa di questo del fenomeno Greta Thunberg penso che l'ha conosciato tutti la conoscete? sì Greta ormai è più famosa sì ormai è quasi una rock star allora prima due parole sulla questione del dibattito questo io vorrei chiarire una volta per tutte che questa storia che all'interno della comunità scientifica ci sia un dibattito non è assolutamente vero allora se voi chiedete a cento anzi mille scienziati che si occupano del riscaldamento globale del clima che sanno come funziona il clima per quello che ne sa la scienza tu chiedi a mille scienziati magari ne trovi uno che ha qualche dubbio due se proprio ormai la scienza di base cioè ci sono tante cose che dobbiamo fare per migliorare le previsioni regionali locali quello che succede però il messaggio di base dal punto di vista scientifico non c'è più un dibattito quello che voi leggere sui giornali i famosi scienziati che vanno alla tv a dire no non è vero niente non sanno niente di clima ma anche grandi fisici io ho sentito delle balle astrali una cosa pazzesca che mi sono vergognato io per loro per quello che stavano dicendo quindi diciamo che all'interno della comunità scientifica non c'è un dibattito poi nei media ovviamente se la gente se la gente si urla parolacce eccetera l'udienza aumenta e quindi invitano persone che ad hoc si inventano balle tipo quella dei Annibale le Alpi eccetera va bene su questo fenomeno di Greta allora prima cosa c'è da dire che il fenomeno Greta non è partito dopo che io ho scritto il mio libro cioè Greta era lì da vari anni ah ok io mi ricordo quando insomma in alcuni contesti di queste riunioni si sentiva parlare di questa ragazzina che all'epoca aveva 12 anni 13 anni che andava lì a legarsi davanti ed era vista come una cosa di costume insomma ecco e poi due anni un anno e mezzo fa insomma quando è stato c'è stata questa esplosione io onestamente non non ho capito i meccanismi del perché appunto lei era già diversi anni cioè noi trent'anni lei era già diversi anni che mandava questo messaggio ed è esploso e magari i ragazzi che appartengono a Fridays ce lo possono spiegare forse i social non so io non sono ma è utile secondo lei non è solo utile secondo me è fondamentale non è solo questione di essere utile questo problema non verrà mia opinione non verrà risolto da queste negoziazioni ad alto livello perché gli interessi che ci sono dietro la riconversione energetica sono troppo forti le lobby che ci sono dietro sono troppo potenti e controllano dei governi in più tu fai una politica a cinquant'anni ma quale politico pensa a trent'anni più in là perché non sarà più in carica per cui la politica ha i suoi cicli elettorali pensa più o meno a quello a occhi e croce se le elezioni l'anno prossimo nessuno importa il 2050 capito quindi io adesso non voglio sembrare troppo così no ci lascio siccome dobbiamo più ci lascio con un messaggio non ho fiducia nella politica ad alto livello che risolve il problema quindi è assolutamente fondamentale che il messaggio venga dal basso e che venga appunto da questi ragazzi e soprattutto dai ragazzi perché da qui al 2050 io non so se ci arrivo onestamente non credo ma è l'arco della loro vita no e quindi sta soprattutto a loro di mandare questo messaggio e si possono cambiare le cose tecnologicamente economicamente possiamo farlo è una questione di cultura di cambiamento nel modo di vedere le cose ma già si vede ma credo che nei ragazzi ci sia una sensibilità pensa alle plastiche io adesso vado tutte le conferenze in cui vado non vedo più una bottiglietta di plastica perché la gente si vergogna di metterla adesso questo succederà sta succedendo con le centrali a carbone le centrali a carbone non si costruiscono più ma anche dal punto di vista sociale perché il messaggio è non fanno bene al pianeta quindi è importante che i ragazzi continuino questa spinta due cose questi ragazzi adesso magari non votano ma un giorno voteranno quindi mandate questo messaggio andate a leggere quello che i partiti dicono sulle questioni ambientali se dicono qualcosa e dopo votate va bene e l'altra cosa noi siamo consumatori è un'arma pazzesca se tutti noi avessimo un consumo un attimo più razionale oculato leggessimo le etichette di come fanno le cose di come si comporta dal punto di vista ambientale una certa azienda e così via possiamo veramente cambiare le cose ma dobbiamo farlo tutti insieme se sono solo io a comprare chilometro non 3.000 e non succede niente ma se siamo tutti quanti cambia la cultura ci vuole un po' di tempo ma cambia e quindi io sono in realtà abbastanza ottimista perché questi segni li sto vedendo quindi forza ragazzi continuate siamo nelle vostre mani diciamo così e poi e con questo proprio chiudo perché vedo questi ragazzi devono ricordare io glielo dico sempre che questo secolo e questo pianeta e il loro secolo e il loro pianeta non è più il nostro quindi loro veramente devono prenderselo in mano e mandarlo nella giusta direzione avete una responsabilità quindi avete una grande responsabilità grazie 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 mille mostro il libro che ho dimenticato qua dietro dov'è eccolo leggetelo è veramente molto interessante molto semplice l'uomo è la farfalla Filippo Giorgi grazie grazie mille portiamo via la sedia ti do anche il libro no me lo tengo e ricominciamo a questo punto la gara come va la giuria? avete litigato? siete pronti? no? andate d'accordo? una buona cosa almeno voi allora cominciamo con la prossima concorrente l'oceano tanto grande quanto delicato un grande applauso per Catalina Reyes immaginatevi a Barcola oppure in Napoleonica guardando verso il mare vi siete mai chiesti quanto grande è? quello che vedete è una piccola parte del mare adriatico chiamata il Golfo di Trieste ora pensate che la superficie è 900 volte la superficie di tutti gli oceani del pianeta e rappresenta i tre quarti di tutta la superficie del pianeta se guardiamo il pianeta dallo spazio la caratteristica più evidente è che è blu appunto poi dove pensate si trovi la catena montuosa più lunga? alcuni di voi penseranno agli Andi altri all'Himalaya niente di tutto questo la catena montuosa più lunga si trova sott'acqua nell'oceano Atlantico e va quasi dal polo nord al polo sud e ancora la montagna più alta si trova sott'acqua e il monte Kea nelle Hawaii e ha 10.000 metri di altezza 6.000 sott'acqua e 4.000 sopra quindi circa 1.000 metri più alti del monte Everest l'abisso più profondo anch'esso si trova sott'acqua nell'oceano Pacifico è l'abisso Challenger e venne esplorato per la prima volta nel 1960 cioè esattamente 60 anni fa da James Picard e Don Walsh a bordo del battiscafo Trieste sì avete sentito bene il battiscafo Trieste che viene costruito in un cantiere proprio qui nella nostra città nonostante l'oceano sia così grande noi esseri umani siamo ugualmente riusciti a fargli del male per esempio dalla sua invenzione nel 1907 ne abbiamo ben prodotti 9 miliardi di tonnellate di plastica e quasi tutto va a finire in mare a questo passo per il 2050 ci saranno più pezzi di plastica che pesci in mare stiamo creando un casino di problemi per la pesca intensiva l'acquacultura estensiva l'inquinamento costiero l'inquinamento acustico la distruzione degli habitat marini per lo sfruttamento del turismo e per l'astrazione di gas di petrolio per cui ricordate ogni volta che andate a fare il bagno a barcola oppure una semplice passeggiata in napoleonica sì l'oceano è grande ma tutti noi abbiamo la possibilità di distruggere il suo delicato equilibrio e quindi domandiamoci cosa posso fare io per evitare questo casino? grazie di là si è staccato il microfono concorrente numero 11 quella che abbiamo visto Catalina e ora la concorrente numero 12 quando i virus diventano i nostri alleati in tempo di coronavirus è interessante saperlo Giulia Bortolussi numero 12 applauso buongiorno a tutti in questi ultimi giorni sono arrivate notizie che esiste un'epidemia su scala mondiale un'epidemia di coronavirus che sta mettendo un sacco di vittime ma è proprio vero che i virus sono sempre e solo nostri nemici? la risposta è no e quando è no? è no quando parliamo di terapia genica cos'è la terapia genica? la terapia genica è inserire un materiale genetico buono corretto all'interno di una cellula che ne è o difettiva o che contiene uno errato in tal caso si chiama mutazione l'idea che i virus potessero fare a questo caso non è nuova viene dagli anni 70 a quei tempi ci sono stati i primi studi in cui i ricercatori cercavano di veicolare il materiale genetico corretto all'interno dei globuli bianchi del nostro sangue nel corso degli anni poi i ricercatori hanno cercato virus sempre più potenti e con meno effetti collaterali negli ultimi decenni è emerso come molto promettente un tipo di virus che si chiama adeno-associated viral vector che si chiama in italiano adeno-associato com'è fatto questo virus? bene è composto da un involucro esterno proteico che viene detto capside e al suo interno è presente il materiale genetico del virus i ricercatori hanno visto che è possibile rimuovere i geni del virus e inserire al suo interno il gene buono che noi vogliamo veicolare all'interno del corpo del paziente e cosa succede? succede che ovviamente noi vorremmo andare in vari organi ok? e possiamo immaginare che questo virus sia come un'automobile e noi siamo i passeggeri e siamo il materiale genetico allora potremmo immaginare di voler andare in montagna per cui abbiamo bisogno di un'automobile 4x4 con gomme adatte per esempio andare sulla neve eccetera eccetera ebbene questo potrebbe essere un virus che va al fegato oppure potremmo pensare di voler andare a girare in pista con una macchina molto veloce e quindi avremo bisogno di un motore molto potente le minigone lo spoiler e quindi potremmo immaginare che questo è un virus che va al muscolo ogni organo ovviamente ha bisogno di caratteristiche diverse e questo è stato ben sviluppato dai ricercatori al momento sono in fase sperimentale avanzata terapie per il fegato per esempio emofilia A e B terapie per neurodegenerazioni della retina o per esempio terapie per la degenerazione del muscolo come la spinal muscular atrophy ovvero atrofia muscolare spinale e speriamo siccome sono tra questi ricercatori di portarvi presto risultati molto promettenti grazie bene grazie abbiamo imparato che anche i virus non sono del tutto negativi prego grazie Giulia concorrente numero 13 un titolo semplicissimo il latte Michele De Angeli buongiorno a tutti chi di voi fa colazione con una buona tazza di latte perfetto oggi vorrei appunto parlarvi delle origini e delle proprietà di questo alimento però per farlo ho bisogno di chiedere due principi scientifici fondamentali il primo il latte lo fanno le vacche non le mucche mucca è una parola onomatopeica per spiegare ai bambini cosa sono quelle strane cose con le corna che fanno il latte secondo punto il latte è un alimento completo è l'alimento più completo che la natura è riuscita a fornirci infatti viene utilizzato per lo svezzamento di tutti i mammiferi nei primi mesi di vita viene usato sia appunto per i vitelli sia come per i cuccioli d'uomo la composizione del latte ha quattro componenti principali acqua proteine grassi e vitamine però questa composizione varia da specie a specie infatti nelle vacche troviamo un 4% di proteina e un 4% di grassi se prendiamo in considerazione invece un'altra specie come gli IAC arriviamo fino a una 50% di quota energetica quindi grassi più proteine questa composizione varia rende il latte un alimento molto versatile infatti oltre al latte che bevete voi alla mattina troviamo anche i formaggi come riusciamo a fare questi formaggi questi formaggi riusciamo a farli grazie a una proteina che troviamo nel latte che è la K caseina la K caseina reagendo con il caglio che è un enzima che troviamo nell'intestino dei vitelli giovani riesce a coagulare le micelle e a renderlo il nostro prodotto che dopo una giusta stagionatura diventa la nostra forma un'altra componente del formaggio molto interessante è la vitamina A che viene chiamato anche retinolo questo retinolo è un precursoro del retinale che è una fondamentale componente della nostra visione l'ultima componente del latte di cui vorrei parlarvi è il triptofano il triptofano stimola la produzione dalla parte della ghiandola pineale della melatonina la melatonina è quell'ormone che gestisce il nostro sonno quindi un buon bicchiere di latte caldo alla sera oltre a farci tornare bambini ci permette di avere un buon sonno tranquillo e rilassato e con questo buonanotte grazie Michele grazie ora un'altra la seconda e ultima presentazione in inglese per questa tornata in titolo è superconductors sentiamo di cosa ci parla Pierre Frommholz prego che ci parla e poi riempire alcune parti dei computer che sono limitati, hai raggiunto, per la temperatura generata da vostro processor quando è calcolato. Ma sai cosa è divertente? Se tu metti un piccolo magnetic field beneath, da un magneto, per esempio, la città di levita. Alcune persone anche vogliono fare un'acqua di un'acqua. Un'acqua! Non è vero, ma c'è qualcosa di vero per voi. Voi, il paio di charlie è di prima. Se si incontra un'imperfetto all'imperfetto all'imperfetto all'imperfetto, e il risultato è tornato alla volta, come me e la mia prima moglie. Ma se non è perfetto, non è vero, non funzionerà. Quindi, credo, non è un'opzione per voi. Non è vero, ma ragazza, perché ho avuto l'imperfetto di nuovo. Ora, mi prendo questo e prendo questo. Questo è, tu hai ragione, un superconductorale topologico. Siamo come prima, ma meglio. Voi sapete cosa scopi manufattori fa a questo? Non! È perché le charlie, adesso, move all'imperfetto all'imperfetto. Non so ne importa di tutto il giro in mezzo. In brief, zero losses, zero heat again. Now, how much of these do I get you? I'm good. Thank you. And umbrella? It's part of the question. Maybe you can train here. Okay. Pierre era il concorrente numero 14. Ricordate, ora passiamo al numero 16. La 15 non c'è. Il colore dei suoni. Un grande applauso per Federico Biasutti. Buongiorno. Io sono un sassofonista. Suono il sax da quando avevo sei anni. Ero alto così, come il sax, praticamente. E una cosa che mi ha sempre incuriosito e affascinato è l'orecchio assoluto. L'orecchio assoluto è la capacità di identificare una nota, quindi la frequenza di un suono, senza bisogno di un riferimento. Dall'altro lato abbiamo l'orecchio relativo, quello che ci permette di identificare solo la relazione che c'è tra le note. Se avete assistito al concerto di un coro, probabilmente avrete visto che il direttore utilizzava questo. Questo non è come pensano molti una posata, una forchetta che non ci ha creduto abbastanza. Questo si chiama diapason ed è un pezzo di metallo che, se percosso, produce una vibrazione a 440 hertz, un là. Il direttore lo colpisce, lo ascolta e attraverso il suo orecchio relativo indica le note ai musicisti. Si stima che l'orecchio assoluto sia molto raro tra la popolazione. Stime non molto accurate parlano di una persona su 10.000, ma ci sono dei fattori che ne influenzano la manifestazione. Ad esempio, è ovviamente più presente tra i musicisti, è più presente tra persone che hanno iniziato a studiare musica prima degli otto anni, tra persone cieche dalla nascita e tra persone che parlano lingue tonali, cinese, giapponese o vietnamita. E se ci pensate, questo è ragionevole, perché in queste lingue il modo in cui io pronuncio una parola, la frequenza con cui io la pronuncio, ne cambia significato. Ad esempio, in cinese dire ma o ma può voler dire mamma o cavallo. Un esempio che secondo me è molto utile per capire questa cosa è quello dei colori. Voi vedete chiaramente che questo è nero e questo è blu. Riuscite a associare questa lunghezza d'onda a quello che vi hanno insegnato essere il nome del colore. Avete in un certo senso un occhio assoluto. Una persona con un occhio relativo non riuscirebbe a farlo. Vedrebbe che i due colori sono diversi, vedrebbe che relazione c'è tra loro, ma non riuscirebbe a dirmi che colori sono. Se io però gli dicessi questo è azzurro, lui mi direbbe ok, se questo è azzurro, allora questo è nero. A questo punto qualcuno di voi potrebbe pensare che figo, lo voglio anch'io questo orecchio assoluto. Può creare dei problemi. Ci sono persone con un orecchio assoluto particolarmente sviluppato che trovano molto fastidioso suonare un pianoforte stonato. È come se io vedessi una scatola di pennarelli e il disegno di una Ferrari. Voi prendete il pennarello rosso Ferrari, andate a colorare ed esce rosa. È la stessa cosa. E poi comunque è molto difficile svilupparlo da adulti e non raggiungerete mai la precisione di quelli che l'hanno acquisito da bambini. Quindi magari se avete del tempo da investire imparate il cinese così non date del cavallo a vostra madre. Grazie. Grazie. Grazie Federico. Concorrente numero 16. Complimenti. Concorrente numero 17. H1N1, la conquista di Marte. Un grande applauso per Alice Emilio. Prego. Grazie. I virus sono come astronavi che atterrano su Marte, il pianeta cellula. E per atterrare hanno bisogno di un sensore H che gli permette di trovare il pianeta giusto, atterrare sulla cellula giusta. E quando sono atterrati non gli basta atterrare, loro vogliono entrare nella cellula per ad esempio inserire il loro DNA, cioè le informazioni per costruire altri virus e unirle a quelle delle informazioni della cellula, il DNA della cellula. Questo per sfuggire alla polizia interstellare, cioè il nostro sistema immunitario. Una volta scampato il pericolo poi loro pensano a moltiplicarsi e moltiplicarsi però non lo possono fare da soli perché non sono vivi e quindi sfruttano i marziani, ossia gli enzimi. E questi enzimi cosa fanno? Leggono e copiano il DNA, quindi le informazioni della cellula. A questo punto le traducono in proteine e quindi iniziano a costruire il virus. Il virus è costituito dalla navicella, quindi la struttura, il capside del virus, dall'informazione che sta all'interno, quindi il DNA virale, e poi dai due sensori, H ed N. E però questi marziani, questi enzimi, sono sfruttati, sono sottopagati, lavorano di fretta e fanno un sacco di errori e non correggono niente. E questi errori portano a cosa? Portano al fatto che i virus non vengano più riconosciuti e soprattutto possano infettare nuove cellule, nuove pianeti. E quindi ad esempio sappiamo che l'influenza magari una volta era solo negli uccelli e poi è arrivata all'uomo, la stessa. E a questo punto cos'è che cambia? H ed N. H è l'emoglutinina, quello che è il sensore che gli serve appunto per attraccare sulla cellula giusta. Mentre N è la neurominidasi, quella che gli serve per staccarsi dalla cellula. E a questo punto cosa abbiamo noi per combattere i virus? Beh, il nostro sistema immunitario ha delle armi che gli possiamo fornire, quindi vaccini, gli antivirali e usare giuste norme igieniche. Però ovviamente se il virus cambia ed è riconoscibile, ha bisogno di nuovi strumenti il nostro sistema immunitario per combatterlo. E questi strumenti glieli può dare solo la ricerca. Quindi nuove vaccini e nuove antivirali. Grazie. Grazie Alice, HN. Bene, ora i vostri smartphone stanno per conoscere Einstein, perché questo è il titolo del prossimo intervento. Smartphone, ti presento Einstein, numero 18, Andrea Oddo. Applauso! Applausi. Destinazione raggiunta quando si dice arrivare nel posto giusto al momento giusto. Tutto merito del buon vecchio Albert Einstein. Perché sapete, secondo Einstein, spazio e tempo cambiano a seconda di chi li misura. Si dice che sono relativi, da cui appunto teoria della relatività. E possiamo cominciare a capire la teoria della relatività tramite due affermazioni. Primo, più viaggiate velocemente, più lo spazio si contrae e il tempo si dilata. In pratica, quando andate in bicicletta state invecchiando più lentamente di chi sta andando camminando. E arrivate anche prima. Secondo, dove c'è gravità, lo spazio curva e il tempo rallenta. Insomma, la vostra testa è leggermente più vecchia dei vostri piedi, perché è poco più lontana dal centro di gravità della Terra. Certo, misurare questi fenomeni nella vita quotidiana è quasi impossibile, sono davvero troppo piccoli. Ma c'è un caso particolare in cui questi effetti fanno la differenza. Ogni volta che utilizziamo il navigatore satellitare del nostro telefono. Questo sfrutta una rete di satelliti attorno alla Terra, che costituiscono il cosiddetto sistema di posizionamento globale, o GPS. Quando il nostro telefono vede quattro di questi satelliti, è in grado di misurare con precisione la nostra posizione nello spazio e nel tempo. Ma questi satelliti stanno sfrecciando verso di noi, quindi è come se stessero andando in bicicletta. Quindi per loro il tempo sta andando più lentamente. Ma si trovano anche ad alta quota. Quindi, esattamente come la nostra testa è più vecchia dei nostri piedi, per loro il tempo starà andando anche più velocemente. Due effetti contrapposti, quindi. Quale prevarrà? Beh, quello dovuto alla gravità. Quindi, sui satelliti del GPS, il tempo va più velocemente. E se trascurassimo questo effetto, il telefono sbaglierebbe a calcolare le distanze a un ritmo di una decina di chilometri ogni giorno. E deve essere comunque uno strumento che ci deve dire tra 100 metri svoltare a destra, possibilmente nella città giusta. Il GPS quindi sfrutta la relatività di Einstein, questa teoria che ci sembra così lontana, astratta, che non ci riguardi affatto. Ma forse è soltanto perché, come direbbe Doc in Ritorno al Futuro, noi non pensiamo quadrimensionalmente. La relatività ci ha messo quasi un secolo per entrare nella nostra vita quotidiana e ci vorrà del tempo prima che le ricerche attuali possano fare altrettanto. Quindi lasciamo andare la ricerca per la sua strada e noi andiamo avanti per la nostra, magari con il navigatore, così evitiamo di perderci. Grazie Andrea. Quindi scusa, la testa invecchia più velocemente. Va bene, quindi i nostri piedi sono più giovani, più giovanili se non altro. Bene, peccato per la testa. Grazie. Ok, l'ultimo concorrente, e poi ci sarà la votazione del pubblico, ma state ancora lì, poi potrete alzarvi. Ma sentiamo l'ultimo concorrente. Gli alimenti probiotici e i loro effetti. Il concorrente numero 19, Michele Blasing. Buongiorno a tutti. Io sono qua a parlarvi degli alimenti probiotici. Ma cosa sono questi alimenti? È tutta una categoria di alimenti fermentati, la cui fermentazione è dovuta a dei piccolissimi esseri viventi che troviamo al loro interno. Ma voi vi chiederete, quali sono questi alimenti? Beh, sono convinto che quasi tutti voi, almeno uno nel frigorifero o al supermercato o in pubblicità alla tv, l'avrete visto. Per citarvene solo qualcuno abbiamo lo yogurt, il kefir, che è sempre una specie di yogurt, tutti quei prodotti sott'olio, sott'aceto, come il cavolo o anche i crauti. Sono alimenti che fanno benissimo e hanno tanti effetti benefici. Per citarvene giusto qualcuno, aiutano il nostro sistema immunitario, ci aiutano nell'assorbimento di minerali e vitamine. Abbiamo fatto, ad esempio, una cura a base di antibiotici, il nostro intestino non sta più tanto bene, fa un po' le bizze. Bene, loro ci aiutano a risanare il nostro intestino, a farlo stare meglio. Un altro effetto molto bello è tipo abbiamo mangiato qualcosa che ci ha fatto male, ci ha fatto andare in bagno, altre cose così. I probiotici ci aiutano anche in questo, sia ad alleviare un po' i sintomi, che non sono proprio bellissimi, sia a guarire prima, a farci stare meglio. Per avere tutti questi effetti, però, dobbiamo mangiarlo giornalmente, questi alimenti probiotici. Però non andate a pensare che ne dobbiamo consumare chissà quante quantità, un chilo, quattro volte al giorno. Ne basta pochissimo, 100 grammi, la quantità di uno yogurt. E per concludere, facendo una battutina, si potrebbe dire uno yogurt al giorno, toglie il medico di torno. Grazie, grazie Michele. Mangeremo lo yogurt allora. A questo punto abbiamo visto tutti, tutti i concorrenti. Da questi adesso la nostra giuria sceglierà quelli che passeranno alla fase finale. Adesso invitiamo la giuria ad accomodarsi nel loro antro qua dietro. Allora, due comunicazioni. La prima per i concorrenti, venite sul palco che facciamo la foto di gruppo, anche quelli dietro le quinte. Per invece voi, ragazzi del pubblico, ora dovete votare il vostro preferito, la vostra preferita. Il personale di FameLab farà girare alcuni iPad, dove troverete una schermata con tutti i concorrenti, nome, numero e foto. E potrete selezionare, ancora un secondo poi siete liberi, i tre concorrenti che vi sono piaciuti di più. Primo, secondo e terzo. Quando avrete fatto la scelta, basterà cliccare il pulsante verde vota e passare l'iPad al vostro vicino. Alla fine della gara ci sarà il premio del pubblico. Ok? Allora state lì fino a che votate e poi un momento di pausa per circa mezz'ora e ci vediamo tra un po'. Ok? Grazie. State lì e votate. Bene, credo che possiamo ricominciare perché questo è un momento importantissimo. Conosceremo i sette candidati che accederanno alla fase finale, che torneranno sul palco per esibirsi con altri tre minuti nuovi nuovi. E tra loro si nascondono i vincitori o le vincitrici dell'edizione di Trieste di FameLab 2019. Sono tutti seduti in sala? Ci sono? Ho fatto un segno di riconoscimento? Ci sono? Bravi! E ora io ho qui i nomi e comincio a nominarli. Man mano che vi nomino vi chiedo di salire velocemente sul palco. Ok? Dopo che sarete soliti sul palco, non so se ci sarà una foto, tutti dietro le quinte a microfonarvi perché comincerete a esibirvi subito. Ok? Pronti? Atmosfera? Il primo finalista è Andrea Belli, numero uno. Fate spazio ad Andrea. Secondo finalista, numero tre, Vieri Candelise. Mettetevi qua. Terza finalista, numero quattro, Sonia Panico. Quarta finalista, la numero sei, Valeria Di Biaggio. Uno, due, tre, quattro. Quinto finalista, Pier Frommholtz, numero quattordici. Penultimo finalista, sesto. Chi è secondo voi? Federico Biasutti. Congratulazioni. E l'ultimo finalista, numero diciotto, Andrea Oddo. Congratulazioni. Mettetevi qui in parata. Forza Andrea, veloce, veloce che non abbiamo tanto tempo. Facciamo la foto. Più stretti. E un grande applauso per quelli che sono rimasti in sala. Sono stati bravissimi. E ce l'hanno messa tutta. Allora, fuori dai piedi, dietro le quinte, Andrea comincerà e quindi microfonarsi immediatamente. E chiedo allora, diamo un po' di tempo ai nostri tecnici qui di microfonare il primo concorrente. Lì della radio, come va? Il podcast. La diretta, come va? Tutto bene, grazie. Tutto bene. Tu chi sei? Sono cambiate le persone al microfono. Sì. Identificatevi. Io sono Elena. Ed io Elisa. Ok, sempre del Galilei. Sì, sì. Come va? Cosa state dicendo? Galilei, molto bravi, bravi. Vi siete portati la clac dietro? Sì. Va bene, diteci un commento su questa mattinata. Cosa state dicendo? Cosa vi state raccontando? Adesso abbiamo annunciato i finalisti e niente, commentiamo un po', giudichiamo. Come vi sentite radiofoniche? Vi piace? Sì. Beh, è un'esperienza diversa. Diversa? Vabbè, insomma, un po' più di entusiasmo, vabbè, ma comunque. Allora, vediamo la clac, forza la clac perché è lì lei. Ci siamo? Pronti, pronti, pronti. E allora cominciamo, cominciamo con la seconda parte della gara. Come vi dicevo, ci saranno tre minuti nuovi nuovi, non sentirete niente di quello che avete già sentito e cominciamo con perché ai genetisti piace tanto lo yogurt. Boh, Andrea Belli! Applauso! Voi volete sapere che cosa c'è qua dentro, vero? Però prima un piccolo riassunto. Allora, le persone modificano il genoma di specie e animali e vegetali dall'alba dei tempi, ma solo negli ultimi 50 anni siamo riusciti a farlo in maniera precisa. Certo, gli strumenti che avevamo erano un po' rozzi fino a qualche anno fa, poco precisi. Diciamo che era un po' come cercare di uccidere una mosca con un martello. Ci puoi riuscire, però è un po' difficile, rischia anche di fare parecchi danni. Nel 2012, due ricercatrici, Jennifer Doudna ed Emmanuel Charpentier, presentano al mondo la più potente innovazione incredibile delle biotecnologie. Già, è un normale vasetto di yogurt. In realtà a noi interessa più quello che sta qua dentro. Infatti dentro il yogurt ci sono molti batteri buoni, tra cui Staphylococcus thermophilus. Questo esserino ha un'arma che usa normalmente per uccidere i virus, che si chiama CRISPR. Le ricercatrici hanno preso questa molecola e l'hanno fusa con un'altra proteina, Cas9, creando così il nostro potentissimo strumento, che si chiama CRISPR-Cas9. Sì, non hanno molta fantasia i ricercatori con i nomi. Questo strumento è incredibile perché riesce a tagliare in maniera precisa il DNA e a sostituire al suo posto un altro frammento di DNA a nostro piacimento. Tutto questo in maniera molto semplice, veloce, economica. I ricercatori di biotecnologie in tutto il mondo sono diventati pazzi per questa scoperta. Vuoi togliere un gene che produce il cancro? Zack. Zack. Vuoi aggiungere un gene che fa una malattia e che fa una medicina? Zack. Vuoi che le tue piante producano un antiparassitario? Zack. Ma mentre le due ricercatrici sono in odore di premio Nobel, beh, qualcun altro solleva dubbi etiche importanti. Nel 2018 un ricercatore cinese, He Shan Kui, ha presentato al mondo la sua ricerca in cui ha modificato geneticamente due embrioni e poi li ha fatti crescere nel grembo materno per far nascere le prime due bambine geneticamente modificate da CRISPR-Cas9. Lui ha inserito delle mutazioni che avrebbero dovuto rendere le bambine immuni dall'HIV che infettava la madre. Ma la comunità scientifica si è schierata in blocco contro l'eticità di questo esperimento. Infatti la madre non era stata informata. Inoltre le bambine non potevano ovviamente esprimere il loro consenso. Oggi noi abbiamo degli strumenti che possono modificare direttamente il nostro genoma. E anche se questo ricercatore è stato condannato a tre anni di galera e 430.000 dollari di multa, questa cosa rimane una realtà. E sarà nostro compito come società e come politica scegliere come usare queste cose. Le potenzialità sono incredibili. Potremmo curare dei tumori, delle malattie genetiche o anche risolvere dei problemi di gravidanza. Ma se questi strumenti dovessero arrivare in mano dei governi senza scrupoli, i problemi sarebbero molti. Tocca a noi tracciare i confini. Quindi è importante conoscere queste cose per lasciare alle biotecnologie la possibilità di renderci tutti un po' migliori. Grazie. Stai qua, stai qua. Renderci tutti un po' migliori. È un bel augurio, una speranza per tutti. Caro Andrea, allora, tu dovrai sottoporti alle domande della giuria. Adesso. A vostra disposizione. A vostra disposizione. Stai attenti perché sono cattive magari le domande. Perché non sappiamo. Manca il microfono. Abbiamo un microfono in giuria? Sì. Ah, ok. Nicola Bressi. Sì. E se tu dovessi scegliere un obiettivo, che cosa modificheresti? Quale genoma modificheresti per primo? Eh, questa è un'ottima domanda. Ma è una domanda... Complimenti. Complimenti per la domanda, dottor Bressi. È una domanda a cui è molto difficile rispondere. Perché la ricerca non va avanti per una strada, ma per molte strade contemporaneamente. Risolvere il problema dei combustibili, modificando il genoma di batteri per fargli produrre idrogeno, è una cosa che cambierebbe veramente la faccia della Terra. Ma allo stesso modo, le terapie geniche, di cui abbiamo anche sentito parlare in altre presentazioni, sarebbero una rivoluzione nel campo della medicina, perché permetterebbero di curare le malattie genetiche in soggetti adulti. Quindi ci sono vari aspetti in cui le biotecnologie possono portare veramente l'umanità in un nuovo step. Non credo che ce ne sia una più importante delle altre, ma tutte dovrebbero essere portate avanti senza pregiudizi, ecco. Ok, altra domanda? Quali sono le dimensioni su cui questi esperimenti si pongono? Perché cosa vuol dire tagliare, zack, un DNA? Come si fa, se si chiama? È zack, è taglio, zack. Ovviamente questa è una domanda che per rispondere ci vorrebbe un corso di laurea più o meno. Non abbiamo tempo, certo. 30 secondi. Si parla di andare all'interno del nucleo delle cellule con delle proteine, con delle molecole di dimensioni nanometriche, anzi ancora meno, e queste proteine sono state già inventate dalla natura per fare quel lavoro. In realtà sono degli strumenti che appunto come Staphylococcus termophilus usa per uccidere i virus tagliando il loro DNA, noi abbiamo usato questa loro caratteristica per tagliare quello che ci pare a noi e per inserire altro DNA. Grazie. Ok, facciamo i complimenti ad Andrea per la sua maglietta. Fai vedere perché vai in giro con questa cosa OGM. Bravo, grazie. Puoi andare. Grazie, ciao. Ciao Andrea, grazie. Prossimo concorrente, particelle allo specchio, Vieri Candelise. Questa mattina mi sono svegliato di ottimo umore. Dopo un bel caffè mi dirigo in bagno per esprimere tutta la mia gioia con un bel sorriso di fronte allo specchio. Quello che osservo con grande orrore è che lo specchio stamattina mi risponde con un ghigno. Penso, ok, sto ancora sognando. Muoviamo il braccio destro e vediamo che succede. Il riflesso è corretto. Muovo il braccio sinistro, vedo il riflesso a sinistra. Tutto ok, sono sveglio. Riproviamo allora con il sorriso. Di nuovo il ghigno. La mia giornata nel mondo dello specchio promette male. Quello che mi è successo stamattina nella fisica si chiama una violazione della parità. Ho visto il mio mondo modificarsi allo specchio. Vi ricordate Alice nel Paese delle Meraviglie? La sua giornata era mediamente sempre monotona, triste, veramente orribile. Ma quando osservava il mondo oltre lo specchio, quello che vedeva era un mondo entusiasmante, ricco di bizzarri fenomeni. Ecco, adesso io vorrei tranquillizzarvi e dirvi che quello che mi è successo stamattina succede solo nelle favole. Ma non è così. Anche la nostra realtà, a volte, si può modificare vista di fronte a uno specchio. Un'altra grande donna ha avuto il coraggio di esplorare la fisica oltre lo specchio. Siamo in Cina, negli anni 30, la giovane Wu decide di cambiare la sua vita in modo apparentemente impossibile, partendo per gli Stati Uniti per cominciare la sua carriera nella fisica delle particelle. Dopo pochi anni, già nel 57, Madame Wu costruisce un esperimento in grado di dimostrare che le tecnologie della fisica viste allo specchio, tecnicamente, diciamo, sotto una trasformazione di parità, sono diverse da quelle che osserviamo nel nostro mondo. Per farlo, Madame Wu prende un atomo particolare, il cobalto 60, un atomo che si disintegra in altre tre particelle. Il suo specchio è un campo magnetico che indirizza una di queste particelle nella direzione predestinata. Quello che vede Madame Wu è che questa particella si muoveva nella parte opposta, proprio come il mio sorriso stamattina, dimostrando quindi che c'è una violazione della parità. I risultati ottenuti da Madame Wu oggi ci permettono di investigare addirittura un altro grande mistero dell'universo, la scomparsa della antimateria dopo il Big Bang. L'antimateria è come un riflesso perduto del nostro mondo. La morale di questa favola è che non solo nelle favole, ma anche nel nostro mondo, spesso, l'apparenza inganna. Grande verità, l'apparenza inganna. Caro Vieri, allora... Vieri è un nome toscano? Sì. Allora, domande dalla giuria. Hai mai visto una particella di antimateria? Dove la trovi? Oggi abbiamo gli acceleratori di particelle che sono in grado di produrre l'antimateria. Non è una cosa misteriosa come questo nome antimateria nei film e nei libri e vogliono farci credere, è una cosa pericolosa. In realtà l'antimateria è una cosa che è stata predetta all'inizio del Novecento e con l'energia delle collisioni negli acceleratori di particelle oggi possiamo produrre copiosamente e studiare. Quello che invece non sappiamo è perché a livello naturale l'antimateria dopo il Big Bang è scomparsa e ora dobbiamo farla a mano come gli artigiani per vederla. Non la troviamo in natura tutti i giorni. Ok, altra domanda? Nessuna domanda? A posto così. Grazie, vieni. Accomodati. Hai finito il tuo percorso. E ora transplicing. Ce ne parla Sonia Panico. Applauso! Buongiorno, oggi parleremo di un fenomeno chiamato transplicing. Ma che cos'è? È un fenomeno che avviene negli animali e anche nell'uomo, anche se è un po' più raro. Però noi lo possiamo immaginare come un episodio di Art Attack. Ciò che ci servirà sono due cartoncini, uno giallo e uno blu, un paio di forbici e uno scotch. Che cosa sarebbero questi due cartoncini? Sono due RNA, cioè due molecole complesse che portano delle informazioni che creeranno quelle che si chiamano proteine. E queste cosa sono? Sono i mattoncini del nostro corpo e hanno una forma e un compito specifico. Ma quindi il transplicing che cos'è? Cosa fa? Con le forbici si vanno a tagliare dei punti specifici di questi cartoncini. Immaginiamo di voler tenere il pezzo centrale del cartoncino giallo. Scusate. E di volerci attaccare i pezzi laterali di quello blu. Otterremo quella che si chiama un RNA chimerico, cioè un nuovo RNA che codifica per una nuova proteina. E questa proteina può essere una proteina utile, però non sempre è così. Spesso abbiamo che queste proteine sono delle proteine tumorali. E un esempio di questa proteina è la proteina chiamata JJAZ1-JAZFI, che è una proteina che si trova all'interno dell'utero, che viene normalmente creata per transplicing e regolata da degli ormoni. Questa è identica alla proteina che si trova all'interno di un tumore chiamato sarcoma endometriale stromale, che è un tumore che si trova nei tessuti di sostegno dell'utero e causa appunto la divisione incontrollata delle cellule, perché le due parti di questa proteina, una rende immortali le cellule e l'altra le fa dividere in modo incontrollato. Quindi è estremamente importante conoscere i meccanismi come in cui avviene il transplicing, perché è ancora poco studiato, e come regolarlo e perché esiste. Si pensa che questo meccanismo sia nato per aumentare il numero di prodotti che si creano a partire dalle stesse materie prime. Qual è il mio punto? Voglio dire che è importante per la scienza concentrarsi su questo argomento per fare in modo di non solo capire le basi con cui si creano alcune proteine del cancro, ma anche cercare delle terapie per curarlo. Grazie. Grazie Sonia, ti aiuto a raccogliere i resti mentre la giuria è pronta. Sì. Dunque, entrambe le tue presentazioni sono di natura di biologia molecolare, mi pare. Quindi potresti dirci qualcosa su questo tuo interesse, se si tratta del tuo percorso di studi? Sì, in parte il mio percorso di studi perché io studio genomica funzionale qui a Trieste. Diciamo, il primo argomento l'ho scelto perché lo stavo studiando per l'esame di biochimica cellulare e lo trovavo interessante per spiegare alle persone come funziona il colesterolo, perché è una cosa di cui si parla. I miei genitori, per esempio mio papà, ha il colesterolo alto, però non sa che cos'è. Il secondo argomento invece l'ho scelto perché sono interessata a lavorare in futuro nell'ambito del cancro e trovare, diciamo, possibili soluzioni. E studiare il transplicing, che è un meccanismo ancora poco noto, è uno di questi, diciamo, approcci che mi interessa. Grazie e auguri. Grazie. Altra domanda dal pubblico, dal pubblico della giuria, scusate, Nicola Bressi. Allora mi collego, visto che la prima parte erano i tuoi studi, come mai hai scelto di venirti a mettere alla prova il Feynman? Sei interessata anche alla divulgazione? Come mai questa sfida? Sì, la mia professoressa di inglese scientifico mi ha proposto questa cosa e l'ho trovata interessante dopo aver visto dei video e sono sempre stata interessata alla divulgazione proprio perché nella mia famiglia molti non capiscono cos'è che faccio. Quando dico genomica funzionale mi dicono, vabbè, che cos'è? E io dico, vabbè, è genetica, più o meno. Però, diciamo, per spiegare un po' qual è il mio ambito lavorativo e perché mi appassiona. Hai provato questa esibizione davanti ai tuoi familiari allora? Sì, i miei genitori e mio padre mi ha chiesto pure se ci sono altre cure. Sì, se ci sono altre cure per il colesterolo perché era, diciamo, interessato personalmente. Ah, vedi, è un problema che ci riguarda parecchio. Va bene, grazie, grazie, credo che sia tutto. Chi fa yoga di voi? Ah, ce n'è una lì. Bene, il prossimo intervento si chiama yoga e fotosintesi. Magari scopriamo qualcosa. Valeria Di Biagio. Namaste. Vi vedo stressati. Troppe presentazioni, eh? Allora, rilassiamoci un po', tutti insieme. Respiriamo. Sentiamo l'aria che entra. L'ossigeno che ci rigenera. Sapete, vero, chi produce l'ossigeno che respiriamo? Le piante che fanno la fotosintesi, che producono glucosio e rilasciano ossigeno. A partire da acqua, anidride carbonica e luce. Bravi. Allora, passiamo alla posizione dell'albero. Rimanete pure seduti. Congiungete le mani all'altezza del mento. Coraggio. Immaginate la clorofilla contenuta nelle foglie che cattura l'energia solare e attiva la reazione fotosintetica. E sciogliete. A proposito di foglie fotosintesi, una figura dello yoga ci riserva una sorpresa. Il loto. Sulle foglie del loto troviamo infatti dei piccolissimi cristalli di cera che impediscono all'acqua e ai detriti di aderire alla superficie. Il loto riesce così a tenere pulito da solo le sue foglie, nonostante viva in stagni pieni di fanghiglia. E avere foglie pulite aumenta la capacità fotosintetica. Ma la metà dell'ossigeno che respirate viene in realtà da un'altra parte. Dal mare. Lo producono alghe e fitoplancton. Ovvero minuscoli organismi vegetali fotosintetici che galleggiano e seguono le correnti marine. Pensate che un quinto dell'ossigeno che respiriamo è prodotto da fitoplancton unicellulare con pareti in silice. Le diatomee. Poi ci sono i coccolitoforidi. Anche loro unicellulari. Proteggono caparviamente la loro cellula con minuscoli scudi di calcite. I coccoliti. Tra le funzioni dei coccoliti c'è quella di regolare l'intensità della luce incidente che serve alla cellula per fare la fotosintesi. E chiudo proponendovi una posizione nuova. Il tino flagellato. Non agitatevi sempre da seduti. Questo tipo di fitoplancton, grande quanto lo spessore di un capello, è però in grado di nuotare. Grazie a due appendici. Un flagello longitudinale. Braccio attorno alla vita. E un flagello trasversale. Braccio in alto, su. Non fate i timidi. Respirate. E nuotando nel mare, sciogliete la posizione. Finalmente rilassati e sorridenti. Allora ricordate che se l'ossigeno viene da piante e organismi marini, proteggere la terra e il mare non è solo una nostra responsabilità. Ne abbiamo proprio bisogno. Come l'aria. Namaste. Fermo, fermo. Fermo qua. Dovrei entrare così a fare il tino flagellato. Com'è? Così. Va bene. Perché ci sono le domande della giuria, capisci? Sì, è la riuscita di scena. Non puoi andare via. Dai. Forza. Dunque, io mi sono molto appassionata perché i dino flagellati sono la mia tesi di laurea. Quindi, però siccome la tua precedente presentazione era su altri argomenti, più di fisica mi sembrava, mi chiedo appunto cosa fai nella vita. Sì. Allora, io nella vita mi occupo di modelli numerici, quindi di simulazioni, però di modelli particolari, cioè che mettono un po' insieme la fisica e la biogeochimica. La bio? Biogeochimica. Quindi mi piaceva dare l'idea sia della parte di fisica che della parte un po' più di biologia, su cui sono meno preparata, dico la verità. Per cui era anche un po' una sfida per me. E lo yoga? Quella è una passione. Per la figura del lotto l'hai fatta bene. In realtà ho fatto Tai Chi Chuan, ma siamo lì. Tutta una grande famiglia. Io volevo, rilacciandomi a quello che ha detto la collega, l'unico tredunion che unisce le tue due presentazioni è il mare. Sei appassionata di mare, c'entra il mare nella tua vita o è un puro caso? Sì, sì, no, ma io mi occupo di questo, di fitoplancton e di come interagisce con tutte le forzanti fisiche che ci sono nel mare. I modelli numerici sul fitoplancton. Sì. Credo che sia tutto. Adesso devi andare via con la posizione del dinoflagellato. Grazie. Bene, prossima presentazione. Quantum Supremacy, Pierre Framholtz. Ah, good morning, sirs, madams. I am Pierre, your personal bank manager. I understand you have some concern about irregular transactions in your account. Well, let me clarify this for you. Isn't it hot in here? Have you ever heard about quantum supremacy? No? Well, we'll need it, so let me explain it. You probably know about binary digits, or bits, right? These zeros and ones that constitute all the information in your computer. Well, following the investment of several billion dollars, both public and private researchers are trying to use the quantum version of these bits, or Q-bits. You see, not only those can be zeros and ones, but they can also be superposition between the two. Like the famous Schrödinger's cat, who can be both dead and alive. Poor cat. Well, using this, you have access to new algorithms that should be faster and even solve problems impossible for a traditional computer. An example. For the best supercomputer in the world, taking reliably a random number between one and, say, 10 trillion, would take about 10,000 years, according to Google. According to IBM, only 2.5 days. In both cases, way too much time. Using Q-bits, Google managed to do that in only three minutes last year. Impressive, isn't it? Impressive, isn't it? Well, performing better than the best supercomputer is called quantum supremacy. What? What it has to do with your account? Ah, yes, yes, yes. I'm getting there. So, as a client of our distinguished union, we provide you with the best of security. Your savings and your transaction are safe behind a 256-bit encryption. To crack the code, a greedy hacker would need to decompose into primary numbers a number about this big. Suffice to say, he will be dead before seeing any success. That being said, using quantum algorithm, it should be faster. Shor algorithm being the most famous to do this. And in 2001, IBM managed to decompose 15 using 7 qubits. But the whole specialist says, we have nothing to worry about, there is no problem. And so, believed our director, oh, you know, our beloved director, he's such a joker. Well, he has a friend that is doing material that should help with this qubit. It's called topological insulators. And he batted him to crack our code. He succeeded. Come here, come here. Yeah, you have to clean a bit. It's a bit long. Well, well. 77 zeros. Yeah, yeah. Okay. We are going to. In the meanwhile, we can. This is a very nice exercise to do. I think we can listen to the questions from the jury. Okay? It's very, very long. I mean. So, Pierre, while you are, let's say, decomposing your quantum numbers, let's say you are from France, right? Yes. And you are studying here in Trieste, especially on what? I'm a postdoc here in Trieste at the ICTP. Okay. And working on quantum computers on what? No, I work on topological matter. Hence, both the first and second presentation. So, the application was on superconductor and on quantum computers. So, actually, I'm doing more theories on the application, but I always have to have those in mind. Okay. Thanks. Another question? I have a question about your first presentation. Of course. Since superconductors are so good, why we are not using them yet? Well, if you talk about normal superconductors, then you have to keep them very cool for them to work. It's difficult to build a big fridge system around your high-tension cable if you want to have them work well, so we just don't do it yet. But they are used in some medical application and in some research application already. So, now, if you're talking about the topological superconductors, and this is something that is quite new, and so it's a bit too early to think about an application, but I can see it happening in the next few years. Thank you. That's very interesting. Thank you very much. Your experience here is over. Thank you. You can relax the bed. Eppur si muove. Vi ricorda qualcosa? Mu? Somma. Questo è il punto esclamativo. Eppur si muove. Federico Biasutti. Si muove anche lui. Applauso. Qualche giorno fa sono stato a trovare i miei nonni. Stavano guardando un vecchio film degli anni 30, un western, e ad un certo punto c'è stata una scena in cui c'era un carro traninato da dei cavalli. Io ho guardato la tv e ho visto la ruota che iniziava a girare. Poi ad un certo punto mi è sembrata ferma e poi ha iniziato a girare al contrario. Sono sicuro che anche a voi è capitata un'esperienza simile. Non sto parlando a quelli a cui è successo quella sera ad Amsterdam. Quella è un'altra cosa. Io sto parlando di quello che è noto come wagon wheel effect. Non so se sapete che i filmati sono costituiti da una serie di fotogrammi messi in sequenza ci danno l'illusione della continuità. Quindi noi avremo che ad ogni fotogramma la nostra ruota si sarà spostata di un po'. Se però la ruota gira così velocemente che ad ogni fotogramma il raggio ha sostituito quello successivo, noi avremo l'illusione che la ruota sia ferma. Questo è un classico esempio di aliasing o distorsione da campionamento lento e si manifesta appunto quando io vado a campionare qualcosa, a misurare qualcosa con una frequenza troppo bassa che quindi non mi permette di vedere quello che sta realmente accadendo. Io ottengo un risultato, un modello dell'RTA che è in realtà sbagliato. Al di là dei problemi che questo può creare a tutti quelli che si occupano di trattamento dei segnali, acquisizione dati, eccetera, e al di là di queste curiosità da settimana enigmistica, l'aliasing può dare problemi anche più grossi e abbastanza pericolosi. Immaginiamo infatti che la nostra ruota non sia più una ruota ma sia una lama. Immaginiamo che sia magari inverno, pomeriggio tardi, fuori e buio, entriamo in una falegnamaria, accendiamo la luce, è una luce a fluorescenza, al neon. Non so se sapete, i neon non danno un'illuminazione costante, pulsano. Sono tipo uno strobo molto veloce e pulsano a 50 Hz, la frequenza della nostra rete elettrica. Quindi se questa lama gira ad una velocità tale per cui ogni cinquantesimo di secondo un dente sostituisce quello successivo, noi avremo l'illusione che questa sia ferma. Ed è per questo che negli ambienti industriali con macchinari rotanti si presta molta attenzione al tipo di illuminazione. Quindi se vi capita di passare per una falegnamaria ad inverno, tardo pomeriggio, magari buttate un occhio alle cose che sembrano girare se non volete finire come quello che non poteva più ordinare cinque birre con una mano. Grazie. Grazie Federico. Congratulazioni anche a te. Allora sentiamo la nostra giuria. Nella prima presentazione ci hai parlato di orecchio assoluto, orecchio relativo, e ci hai fatto l'esempio dei colori. Allora nei colori c'è qualcuno che è dal tonico, che non riesce a riconoscere i colori, il rosso, dal verde, eccetera. C'è qualcosa di simile per i suoni? Cioè si può essere dal tonici sonori? Allora, premetto che non che io sappia, ma presumo che ci sia una cosa simile, perché si tratta comunque di collegamenti a livello neuronale, quindi presumo che ci sia qualcosa di simile. Però mi dispiace ma non le so rispondere con sicurezza, anche perché non sono, cioè non tratto quest'ambito. Io, come ho detto prima, l'orecchio assoluto l'ho conosciuto grazie alla mia esperienza da musicista, quindi mi limito alla parte musicale. Perché mi interessava l'orecchio relativo, per cui uno distingue due frequenze, io quando sento mia figlia e mia moglie accordare la chitarra io non riesco a distinguere anche due note vicine, quindi mi sembra di essere dal tonico sonoro per questo motivo. Io sono sordo, ma è un altro problema invece. Quella è una questione di allenamento, ma comunque, sì, l'orecchio assoluto è proprio la capacità di associare quella frequenza al nome. Quindi questo è. Grazie. Visto che non ti occupi di quello, invece di che cosa ti occupi ce lo racconti? Io sto facendo il dottorato in ingegnere industriale, a Udine, e tratto la trasformazione digitale degli impianti, e infatti il secondo tema, l'aliasing, è un qualcosa con cui ho avuto a che fare, appunto trattando dispositivi elettronici, eccetera. Grazie. Bene. Ok. Grazie Federico, portati via la tua ruota. E siamo all'ultimo concorrente per questa ultima tornata. queste oscure materie, ma con gli alieni. Andrea Oddo. Applauso, è l'ultimo. Si dice che il primo passo per risolvere un problema sia ammettere di averne uno. Ecco, sono completamente ignorante. E non è un'esagerazione, è che sono un cosmologo, cioè studio l'universo. E noi cosmologi, per esempio, non abbiamo idea di cosa sia fatto l'85% della materia contenuta nell'universo. La materia ordinaria, quella che possiamo vedere, costituisce solo il 15% della materia contenuta nel cosmo. Tutto il resto è qualcosa di completamente invisibile. Questa strana forma di materia la chiamiamo materia oscura. E per certi versi non si comporta in modo così diverso dall'acqua. Se prendo un bicchiere e lo riempio con dell'acqua, il bicchiere sarà più pesante. Attraverso l'acqua ci posso vedere e per di più l'acqua distorce le immagini. Se prendo una cannuccia e la metto all'interno del bicchiere d'acqua, la cannuccia mi sembrerà spezzata. Ma è solo un effetto ottico. E mi raccomando, solo cannucce riutilizzabili. La materia oscura si comporta in modo molto simile. Appesantisce le galassie, ci posso vedere attraverso e lì dove ce n'è tanta, distorce le immagini. Ma come potrete immaginare, la materia oscura non è fatta di acqua. È fatta di qualcos'altro e non abbiamo la minima idea di cosa questo possa essere. E per di più, essendo invisibile e impalpabile, potrete capire che studiare la materia oscura non è proprio semplice come bere un bicchiere d'acqua, appunto. Ma qui ci viene in soccorso la gravità. Infatti, la materia oscura è sei volte più abbondante della materia ordinaria. Quindi la materia ordinaria risente della gravità della materia oscura e ci cade sopra. Quindi si accumula, si ammucchia e forma poi galassie, stelle, pianeti e infine persino noi. E questo ci dà un indizio su come possiamo studiare la materia oscura. E per capire come possiamo fare, possiamo chiedere, non ci crederete mai, agli alieni dei film di Hollywood. Perché vi siete mai chiesti come mai gli alieni attacchino sempre le grandi città degli Stati Uniti d'America? Seguitemi. Loro arrivano sulla Terra e ovviamente non hanno buone intenzioni. Non conoscono le nostre culture, non parlano le nostre lingue. Che carta possono giocarsi per fare i più danni possibili? Beh, possono osservare le luci sulla faccia notturna della Terra. Lì dove non ci sono luci ci saranno oceani, deserti, società poco sviluppate. Ma lì dove ci sono più luci ci sarà più popolazione. Così come gli alieni usano le luci delle città per trovare le aree con maggiore densità di popolazione, noi cosmologi usiamo le galassie per trovare le regioni in cui c'è più materia oscura. Cerchiamo di fare luce sull'universo oscuro. Scrisse Shakespeare nel suo ambleto ci sono più cose in cielo e in terra, Orazio, che non sogni la tua filosofia. E col senno di poi forse non aveva tutti i torti. Grazie. Grazie Andrea. Vieni qua. Chiudiamo con Shakespeare. Eh, mica con poco. Scusa Shakespeare. No, no, vabbè, sarà contento. Sentiamo. Allora, sei un cosmologo, ci hai parlato di materia oscura. C'è anche qualcos'altro di oscuro? Eh sì. Infatti siamo ancora più ignoranti di quanto io abbia detto perché in realtà la materia compone solo il 30% dell'universo. Il restante 70% è fatto da energia oscura. Cos'è l'energia oscura? Bella domanda. Chi lo scopre vince il Nobel. Sappiamo soltanto che è la responsabile dell'espansione accelerata dell'universo. Non sappiamo letteralmente nient'altro. Sappiamo che se la includiamo nei nostri modelli, tutto quadra e tutto funziona. Ma da lì a sapere cosa sia... Siamo ancora più ignoranti. Grazie. Seconda domanda. Hai detto sono un cosmologo. Perché sei un cosmologo? Cioè quando l'hai voluto fare? Quando l'hai capito? L'ho capito due anni e mezzo fa. Ero alla fine del primo anno di dottorato alla Sissa. E avevo varie opzioni davanti. Ho detto beh, però la cosmologia non è niente male. Proviamo a studiare cosmologia. Ed eccomi qui. Sei un fisico? Sì, sono un fisico. Sono fisico, astrofisico. Lo ammetto. Fisico, astrofisico e tecnicamente sono fisico astroparticellare. Eh, e dite poco. Va bene. Possiamo salutare Andrea? Altre domande? No. Grazie, grazie Andrea. Vai a riposare. È finita anche per te. Ma invece adesso comincia il lavoro della giuria che devono ritirarsi per decidere chi saranno i primi tre classificati. I vincitori avranno diritto alla possibilità di partecipare a FameLab Masterclass, un workshop di formazione in comunicazione della scienza che si esloggerà ad aprile. E per i vincitori della selezione di Trieste sono previsti anche dei premi aggiuntivi. I primi due classificati si aggiudicheranno un premio in denaro, che non fa mai male. e il primo classificato potrà anche accedere in qualità di uditore a un corso del Master in comunicazione della scienza franco-prattico della Sissa. Ma mentre aspettiamo che la giuria esprima il suo verdetto, è il momento del saluto delle autorità, dei rappresentanti delle istituzioni che organizzano FameLab Trieste 2020, che invito a salire sul palco, a cominciare dall'assessore alla scuola, educazione, università e ricerca del comune di Trieste, Angela Brandi, per un saluto. Abbiamo il microfono. Buongiorno, ci ritroviamo dopo un anno, sempre noi. Sempre qui, sempre qui. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno ragazzi. Io accetto questa sfida di questo format e quindi parlerò meno di tre minuti, ovviamente, come hanno fatto finora i ragazzi che mi hanno preceduto, i ricercatori, a cui va il mio ringraziamento, perché si sono messi in gioco, perché hanno dimostrato che anche le cose più complicate possono essere spiegate in pochissimo tempo. Quindi che la sintesi è un dono molto importante quando bisogna parlare di cose, appunto, importanti. È inutile fare grandi giri di parole e anche le cose più difficili possono essere spiegate con chiarezza, con semplicità, in poco tempo. Questo penso che sia il senso di questa iniziativa che va avanti da tanti anni e un perché, quindi ci deve essere. Questo è il suo perché. Io sono molto felice quindi che come amministrazione comunale abbiamo sostenuto questa iniziativa in coorganizzazione con altri enti, con le tre università, con l'ICCB, ma soprattutto con l'immaginario scientifico. E sono felice perché quest'anno, appunto, come è stato ricordato, ci saranno le selezioni nazionali proprio qui a Trieste. I miei tre minuti sono finiti, quindi li rispetto. Vi auguro buon lavoro e ringrazio di nuovo tutti i partecipanti. Tutti quanti sono stati bravi, ci saranno i vincitori. Ma questo è nelle cose della sfida. Auguri a tutti. Grazie, grazie. Rimanga qui con noi, Assessore. E ora invito sul palco Serena Mizzan, che è direttrice dell'immaginario scientifico che ha organizzato tutto questo che non è stato semplice. Ringraziamo tutto lo staff, Aura Bernardi, Micolascoli e tutti gli altri che hanno partecipato. La giuria è rientrata, quindi sarò brevissima, non perdiamo tempo, perché sono tutti curiosi di sapere chi ha vinto. Immaginario scientifico organizza questa cosa che è una delle iniziative che più è nelle corde del nostro orde, del nostro oriente, che ringrazio tutto, perché è sicuramente una gran fatica, ha ragione, ma insomma ci sono delle grandi soddisfazioni. Inoltre quest'anno è un anno particolarmente speciale per quanto riguarda FameLab, perché i due vincitori potranno disputare la gara nazionale di nuovo qui a Trieste a maggio, perché quest'anno abbiamo questa opportunità di avere la finale nazionale a maggio. Ringrazio tutti i partner di questa iniziativa, li vedete qui, ringrazio il Comune di Trieste, ringrazio soprattutto il Comune di Trieste per aver avviato anni fa, ma per continuare ad alimentare questa importante rete che raccoglie gli enti di ricerca presenti sul nostro territorio che si chiama Trieste Città della Conoscenza e cedo rapidamente la parola a qualcun altro. Grazie, grazie Serena Mizza, direttrice dell'immaginario scientifico. Invito sul palco Francesco Longo che investe di giurato e anche di rappresentante dell'Università di Trieste. Userò meno dei tre minuti dei giurati, sicuramente. L'Università di Trieste supporta con convinzione questa manifestazione. Avete visto presentazioni di tutti i generi, dalla fisica, alla biologia, alle neuroscienze, al quantum computing. Ecco, l'Università un po' si occupa di tutte queste scienze, ma anche del comunicarle. Non esiste la scienza senza comunicazione della scienza. Non sarebbe scienza in se stessa. Quindi noi con convinzione supportiamo questa iniziativa da sempre e porto i saluti del Rettore che non è potuto intervenire alla manifestazione. Grazie a tutti. Grazie, bravissimo, brevissimo. Vi invito a restare al centro per ragioni di fotografia. L'anno scorso sono stato sgridato, per questo imparo le lezioni. E ora, in rappresentanza dell'Università di Udine, la professoressa Valeria Fili, delegata del Rettore alla pari opportunità, appunto, dell'Università di Udine. Benvenuta. Grazie. Porto i saluti del magnifico Rettore dell'Università di Udine, il professor Roberto Pinton, che plade e sostiene l'iniziativa. E poi, mi complimento personalmente con tutti i bravissimi giovani ricercatori in erba per le loro performance, per i messaggi che hanno lanciato ai quelli che sono ancora più giovani, per invitarli, quindi, a studiare, continuare a studiare cose sempre nuove, sempre più strane, e saperle comunicare. Devo soltanto fare un appunto. Mancano le scienze umane, le scienze giuridiche, io sono una giurista, le scienze economiche. Quindi rilancio. FameLab dovrebbe anche occuparsi di questo. E poi un augurio particolare a tutti i giovani che hanno parlato. Oggi hanno fatto un FameTalk, Qualcuno vincerà, ma io gli auguro di partecipare a un TED Talk e di parlare a tutto il mondo. Grazie. Grazie. Grazie mille. L'ultimo saluto dal professor Cristian Micheletti, delegato per la didattica e professore di istruttura della materia della Sissa, che ci saluterà in rappresentanza della Sissa. Buongiorno a tutti. Vi porto i saluti del nostro direttore, il professor Stefano Ruffo. La Sissa partecipa e promuove FameLab da vari anni e lo fa con molta convinzione, perché come istituto di ricerca sappiamo che è importante comunicare la scienza e sappiamo anche che farlo bene è difficile. Una delle cose più difficili che oggi abbiamo visto fare benissimo è semplificare le cose facendo ordine e gerarchia nei concetti per poterle comunicare con efficacia anziché metterne molti, molti concetti, sullo stesso piano e complicare le cose. I ragazzi che abbiamo visto oggi l'hanno fatto molto bene e per questo hanno la nostra gratitudine. Grazie a tutti e buon proseguimento. Grazie mille e ora siamo arrivati al momento di sapere chi ha vinto, quali sono i vincitori. Lì in alto siete pronti? No, sono confusi. Voi siete pronti? Sì! Sì! Immagino! Cominciamo con il premio del pubblico, quello che avete dato voi. premio speciale del pubblico va a Suspense? Vabbè! Pierre Frommolz che vince il libro dell'edizione dell'Università di Trieste! sono spariti i premianti venite sul palco a premiare Assessore venga Assessore venga a premiare vieni 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 Pierre l'Assessore Brandi ti premia thank you thank you public ok posate per la foto rimani qua rimani qua terzo classificato fa da riserva per la finale vince i libri dell'edizione dell'Università di Trieste Andrea Oddo congratulazioni foto di rito stiamo per scoprire i primi due classificati secondo classificato classificata Valeria Di Biaggio brava valeria andrà alla finale italiana alla masterclass nazionale vincerà un premio in denaro i libri dell'edizione Università di Trieste brava Valeria congratulazioni e ora il vincitore di FameLab Trieste 2020 che è Pierre Fromholz è già qua due premi Pier vince l'accesso alla finale italiana la masterclass nazionale un premio in denaro la possibilità di accedere a un corso del massimo comunicazione della scienza dell'assist dei libri dell'edizione dell'Università di Trieste un sacco di roba invito sul palco la giuria per un saluto è una foto di Rito io vi ringrazio dell'attenzione e ci vediamo a tra poco perché ci vediamo il 4 maggio giusto per la finale nazionale di FameLab ciao a tutti grazie grazie